Un po' straniti dall'evento vissuto poco tempo fa, riprendete il vostro viaggio con direzione chiaramente il Minkai. Ulf stesso vi dice che non aveva mai incontrato un contingente così così corposo di non morti e senza ombra di dubbio non aveva nemmeno mai notato questi pilastri ancestrali, imponenti, che si stagliano verso il cielo. Certo, nella regione vi sono parecchi non morti, ma generalmente agiscono in solitario, un po' come la Vergine ghiacciata. Vi è addentrato ulteriormente nella foresta? Ormai siete così abituati al freddo? È la notte che i più arditi ormai non riescono, cioè non fanno più fatica ad accettare la situazione, come se fosse parte del vostro essere, come se ormai fosse tutto quello che conoscevo. I giorni passano, a me Ico talvolta sembra approcciarsi anche nei miei confronti in maniera più sensibile rispetto a quanto non faceva negli ultimi tempi. Io non la scaccio, anzi, non ho mutato il comportamento nei suoi confronti, quindi semplicemente se lei viene viene a... così a farsi vedere, insomma, a chiedere, io sono lì, senza problemi. Mhm. Poi dipende cosa mi chiede, nel senso, io faccio quello che ti ho detto, quindi le torce, tutto quanto. Sì. Allora, sostanzialmente sono, per il momento, sono discussioni un po' generiche, come se stesse cercando di riagganciarsi a ciò che evidentemente percepisce, come è perso, come è differente dalla situazione che effettivamente vi è da prima tra voi due. Chalelu stessa, tra l'altro, come ti avevo già accennato, come ha fatto nei giorni precedenti, sembra volersi riavvicinare un po' nei tuoi confronti, attentoni. Con questi presupposti il viaggio è continuo, forse i toni, la tensione si è scaricata un po'. E diciamo che la valvola di sfogo è diventata, nella carovana, Ulf, per ciò che ha fatto, con l'azione così spregevole, che voi stessi gli avete rimarcato. Lo hanno fatto diventare un po' segretamente lo zimbello del gruppo. Stronzo. Merda, muori. Certo, però, non glielo fate notare direttamente, anche perché avete sempre un po' di consenso della vostra guida, quindi diciamo che ne sparlate un po' alle spalle. Io personalmente non partecipo allo sparlato. No, sarebbe più una cosa, cioè, nel senso, magari voi state lì, ma... Cioè, sento, sì, ma non partecipo. Sì, sentite i vostri compagni che ne sparlano, ecco, cioè, è un atteggiamento abbastanza generale, la carovana. Ma sì, in realtà è un modo come un altro per scaricare la tensione. Esatto, è diventata appunto la vostra aula di scuola. Dunque, in tempo, una settimana, arrivate al tanto atteso lago Nalishot che Ulf mi aveva anticipato. Come vi approcciate, chiaramente sempre nella fredda e lugubre notte polare, al villaggio che prende posto alle rive del lago, notate che è completamente deserto e in parte diroccato. Ulf stesso vi spiega che solo l'anno scorso era passato di qui ed era un villaggio come un altro. Fai questa rotta spesso, quindi? Lui annuisce, è torbo. Capita spesso che passi da queste parti, sì. Come avevo già detto, lo preferisco rispetto alla strada più trafficata dall'altra parte. Ma c'era qualcuno di importante qui per te? Eh, nessuno. Nessuno di qui valesse la pena. Certo, però... È strano, dopo tutto... Sembrava un villaggio abbastanza prosperoso. Dando un'occhiata in giro si può capire se ci sono evidenti segni di qualche creatura. Voi siete ancora... Vi siete fermati, diciamo, un po' fuori dal villaggio. Questo è un po' la situazione, il preambolo di quel che vedete da fuori, appena vi approcciate, appena riuscite a scorgere, appunto, gli edifici diroccati. Va bene. Forse potremmo andare a dare un'occhiata, magari ci sono tracce di pericoli imminenti. A me risca. Allora, addentrandovi nel villaggio, notate che i segni di decadimento che ormai sono presenti su praticamente ogni abitazione non derivano da un'opera artificiale, di qualche creatura, di qualche, magari, villaggio avversario che ha compiuto una retata. Sono semplicemente segni del tempo, segni di disuso, abbandono. Però prima avevi detto di roccato, cioè nel senso che qualche edificio è mezzo corollato? Sì, sarà stata probabilmente la neve che si è... Ma in un anno? Queste zone sono estremamente rigide, qui la neve può... anzi no, fammi un tiro, ce l'hai in natura? No, io no. Geografia, geografia. No, no. Allora questi dubbi li puoi esporre, diciamo, a chi dovere, nel senso... Ad Aidan, insomma. Sì. Aidan, fammi geografia. Sì. Sostanzialmente, in queste regioni, in un anno intero, possono precipitare forse, forse anche decine di metri di neve. Quindi ci sta che se non venga mantenuta un'abitazione crolli sotto il peso della neve stessa. Ok. Annuisco alle parole di Aidan. Comunque sembra non esserci rimasto proprio niente qua. Potremmo sfruttare qualche edificio come copertura per rimetterci in sesso, magari raccogliere della legna. C'è la legna, no, intorno? Eh, chiaramente, sì. Gli edifici sono composti interamente da legna, però sono quasi del tutto bagnati. No, no, io parlo... Il verde che si vede sulla mappa, sono alberi, no? Sì, sono alberi. Eh, dicevo, se ci fermavamo un paio di giorni raccogliamo la legna per le riparazioni, queste cose. Ma sì, accendiamo un bel po' di fuochi. Eh, ci riposiamo un attimo. Comunque, anche se le case quasi sono tutte riroccate, qualcuna che offre un po' di copertura, comunque con delle risorse all'interno, fossero anche... Che ne so, vettuvaglie, è cibo oppure... Vettuvaglie. So, gli arlesi, no? Sì, sì. Qualche vettuvaglia. Chiaramente se non se le so portate via. Tanto è abbandonato. La cara... Vai, vai, dimmi. In realtà, mentre loro fanno questa cosa, io stabilisco un perimetro, prendo un paio di guardie e... Per lustro i bordi del... Del posto, insomma, per evitare che qualcosa stia guardando l'accampamento, eccetera, eccetera. Cerco tracce per vedere se ci sono stati ingressi massicci da qualche parte. Io in realtà comincio a creare, tipo, una serie di... Preparare, diciamo, la creazione di fallò, in modo che possano un po' risollevare gli animi e creare un po' di calore, anche. Ok. Ok, andiamo a lungo. Akira, tu stabilisci il perimetro. Sostanzialmente i tuoi uomini non trovano segni di attività nei pressi del villaggio. Tu stesso fai un giro di ricognizione, ti fermi anche all'interno di qualche capanna di roccata e con il tuo sconforto trovi oggetti mondani della vita di tutti i giorni, probabilmente, appartenuti a bambini di questo villaggio che ormai... Ormai non si trovano più qui, ci sono... Ci sono cadaveri? No, non ci sono cadaveri. Quindi sono scappati in fretta, probabilmente, se ci sono cocate tutta questa roba. Esatto, cioè, dalla... Da come appare le varie abitazioni, si sembra che abbiano lasciato praticamente tutto lì a marcire. Nel frattempo, mentre tu compri questa ricognizione, Aidan, tu ti dai, insomma, ravvivi qualche falò, costruisci, cerchi di metterne in posizioni strategiche. Un'altra cosa, se me lo permetti, visto che abbiamo i giocattoli dei bambini, potrei provare uno scrutare, magari, per il vecchio possessore del giocattolo, o è un po' troppo... Scusami, puoi ripetere? Cioè, tipo, usare, diciamo, tra virgolette, il giocattolo come focus per scrutare il vecchio possessore, per vedere se è vivo, dove si trova. Sì, puoi farlo. Ok, allora, magari, dopo averne parlato con Akira, mi metto in una stanza a meditare, concentrandomi sul giocattolo, provo a identificare, a osservare, in realtà, il bambino che apparteneva. Così, se sono ancora in pericolo, dovremmo fare qualcosa, sì. Bravo, fratellino. Ottima idea. Dunque, dopo averli posizionati in maniera strategica, nei pressi dell'accampamento, ti metti su un shop di regno, lì vicino, e descrivimi tu il modo in cui lo vuoi scrutare. Mi metto il... Cos'è? Tipo una bambolina o qualcosa del genere, mi immaginavo. Sì, una bambolina di pezza. Me la metto davanti, la studio per diversi minuti, poi, concentrandomi, la bambolina si alza davanti a me e rimane fissa a tipo un metro di distanza dalla mia testa. Io, con gli occhi chiusi, sono totalmente perso nelle divinazioni e rimango così per qualche minuto, cercando di concentrarmi sempre di più su questo legame che si fa sempre più forte, sperando di riuscire a trovare qualcosa. Hai sentito parlare in passato di incantatori che riescono a osservare in questa maniera, a scrutare. Dopotutto è una pratica assai diffusa, ma per te è differente. Le tue visioni avvengono nella tua mente, avvengono quasi come le stesse prescienze che ti avvolgono in ogni istante della tua vita. Il tuo occhio interiore risplende più che mai quando fai uso di questa divinazione. E quel futuro che tu vedi distorto, improvvisamente, rega come una strada, come se diversi blocchi di una strada formassero un percorso di fronte a te, legando futuro e presente. Su questa strada iniziai a percepire un bambino. Il suo aspetto è molto differente da come tu l'aspettavi. Appare come un maialino, umanoide, molto spaventato. Che cosa fa esattamente? Lui si trova sotto le coperte. Sembra essere in procinto di addormentarsi. La cosa caratteristica che noti della sua casa è che ha uno stile prettamente piano. Ok. E finisce così, cioè non vedo nient'altro, vedo soltanto lui. Sì, non vedo nient'altro, sì. Ok, allora riapro gli occhi e immediatamente la bambolina che fluttuava davanti a me cade a terra. Mi rialzo un po' a disagio e mi dirigo verso gli altri se non erano immediatamente... No, sono lì, sono lì. Ok, ok. Che strano. Era come se fosse un piccolo maialino. Cioè proprio col volto. Un inspiegabile. Cioè sembra proprio fisicamente un maiale. Sì, una cosa di questo genere. Non riesco a capire se semplicemente era un qualche tipo di divisione o se effettivamente... Perché forse è una razza che non abbiamo mai visto. Tipo Ulf lo saprebbe, no? Ulf. Ulf! Mentre state parlando un po' al margine, che sostanzialmente voi siete lì seduti alla carovana, però gli altri si stavano andando da fare per costruire l'accampamento. Dal primo all'ultimo non c'è una persona che si sentira per indietro. Chiaramente anche voi avete avuto le vostre mansioni, adesso vi stavate prendendo un attimo di pausa. Ulf si gira, stava esaminando il territorio, ispezionando la zona con i suoi occhi sempre vigili. Che c'è? Eh, vado da lui, insomma. Gli espongo questa cosa. Ti guarda molto, molto stretto. Non ho idea di cosa tu stia parlando, Agira. Non ho mai visto una razza del genere. Pure però non mi sorprenderebbe che fosse spurtata dal lungo. Sai di chi era questa bambola, per caso? Scrolla le spalle. Te l'ho detto, non è che avessi moglie qui in questo villaggio. Vabbè, magari conoscevi i nomi dei bambini, che ne so. Mi dispiace, non posso aiutarti. Certo che stanno succedendo cose strane sulla corona. Voi non potete sapere, perché non l'avete mai vissuta. Da qui non morti, il villaggio scomparso improvvisamente. Maiale e umanoide. Sono cose che mi fanno storcere il naso. Puta casa. Dove siete voi, noi sono anche sempre intoppi. Ormai a questo dovresti esserci abituato. Ulf si gira verso un punto non ben definito, verso la foresta. Osservando gli alberi con un'espressione un po'... Un po' rammaricata, forse. Forse siete stati solo maledetti dal destino. Cosa del genere. Prescelti o maledetti, non cambia molto. Spesso sono due facce della stessa medaglia. Già. Beh, dunque... Non perdiamo altro tempo, abbiamo molto da fare. Se vogliamo sopravvivere stamattina. Ascolta, Ulf, ultima cosa. Ci sono grossi animali qui che possiamo cacciare? Negli ultimi... In questi due giorni che restaremo qui. Generalmente la maggior parte dei grossi animali in questo periodo va in Italia. Ma sicuramente troverete qualcosa. Forse qualche chimera o biberna. Allora li prenderemo dalle loro tane. Ancora meglio. Faire mostri del genere. Cosa? Siete sicuri di voler affrontare mostri del genere? Non vedo perché no. Ci servono risorse, d'altronde. Ma sono commettibili. Tu non sei lì con loro. Ah già, scusate, hai ragione. No, no, è vero, è rimasto indietro. Akira è nato da vul. Sì, perché mi è andato da... Sì, 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 scusate. Beh, Akira, Ulf ti congela. Praticamente lo vedi abbastanza spaziantito. Come se la discussione fosse del tempo sprecato. Ma non è tanto una cosa personale. Quanto lo capisci, è più un pragmatismo atto alla sua avvivenza. Lui pensa che qui non si possa mai sprecare tempo quando c'è più lavoro da fare. Ah beh, ma ok. Se lui reputa che io stia sprecando un tempo mi spiace, però... In realtà sto cercando di trovare una soluzione diversa ai problemi. No, sì, beh. Ti ha appunto spiegato come vive la fauna locale. E adesso si dilegua. Continuo, lo vedi dalla distanza, esplorare un po' il circondario. Appiantare talvolta dei paletti per terra. Come è delimitare il territorio. Puoi farmi una prova di conoscenze natura. Non ce l'hai da. Non ho niente. Per me è una snag. Fammelo tu Aidan, lo vedi? Sì, sì, vieni un attimo. Ehi, scusa, non è che puoi dirmi... Vabbè, lo vedi dalla distanza. Non sai cosa stia facendo. Non ne hai idea. Scrollo le spalle e mi metto a pensare al bambino. Akira, colto alla sprovvista, mentre ti giri per tornare da... Sono 57 anni. ...da tuo fratella. Sì, così. Ok, va bene. Ti giri e ti trovi davanti la figura slanciata, snella, di Shalelu. Ok, sobalzo un attimo perché non l'ho sentita arrivare. Beh, non ti ho sentita. Ciao. Tutto bene? Ciao Akira. Volevo... Volevo solo dirti che... Ecco... Beh, mi dispiace di come siano andate le cose. Forse nei giorni scorsi. Forse abbiamo assunto troni troppo marcati, entrambi. Come ti ho già ripetuto l'ultima volta, ti chiedo scusa per quello che è successo. Non è la mia intenzione né ferirti o cos'altro. È stato un momento molto duro per tutti. Quindi non ti preoccupare. Non è successo niente, in realtà. La ragazza si gira. Come non volerti guardare negli occhi. Incroce le braccia sul petto. Si dondola su una delle due gambe. Sì, però non fare così, che poi mi viene male. Lo dico proprio. Lei senza scomporsi. Akira... Dopotutto, però, voglio che sia chiara una cosa. La bambina non può essere cresciuta con degli standard umani, mezzi demoni o chi che sia. Devi capire che ha bisogno di un modus operandi elfico. Elficità. Crescere troppo in fretta per un elfo è pericoloso. Ok? Non puoi insegnarti cose al passo, alla velocità di un uomo. Perché viviamo dieci volte tanto. Cresciamo, ci sviluppiamo dieci volte più lentamente. Va bene. Ma dici perché sto facendo fare quei giochi con le torce e tutto quanto? Lei alza una mano e come, diciamo, a dire no, ecco. Te la fa... Insomma, è il gesto, è il classico gesto. Ma no, Akira, non è quello. Non mi sto riferendo ai giochi con le torce. Parlo di quello che avete provato a fare, all'approcciarla alla magia. È stato eccessivo. Soprattutto per una... Pensa a una bambina umana. Come fai a iniziarla alla magia in un'età così... Trematura? Ah, è vero, sì, esatto. Quello non l'abbiamo realmente fatto, eh. Si parlava di farlo, poi abbiamo effettivamente concordato che non era cosa. Quindi l'unica cosa che abbiamo fatto era... Sì, sì, però diciamo che... Eh, ne avevate parlato, magari lei comunque era lì con voi, vi hai sentito, ecco. Solo l'idea stessa le ha dato molto fastidio. Ok. Si gira verso di te e ti guarda con uno sguardo torvo. Non ho intenzione di scaturire ulteriori contrasti, però, per favore, lasciate questo genere di quasi amine. Voi potete contribuire, certamente, potete farlo giocare, potete insegnargli anche qualcosa, però cercate di farlo con un passo più moderato, ecco. Non può crescere troppo in fretta, soprattutto dopo quel che ha visto, io temo che non sia già successo in parte. Chanel, il problema è che nessuno dovrebbe mai assistere a quello che ha assistito lei. Quindi, come fai ad applicare una logica che andava bene per una bambina che di fatto avrebbe potuto crescere alle amorevoli curi dei propri genitori con un'istruzione classica o con un'istruzione decisamente più normale? Cioè, la sua istruzione è stata vedere lo spirito di sua mamma che si allontanava da lei. Quindi, un demone che l'ha presa in braccio o un'altra elfa che di fatto non condivide i suoi colori normali, perché, che che tu ne dica, tu appari diversa da quello che erano loro. Quindi, tu potrai anche identificarti come la sua gente, ma ti vedrà comunque diversa, anche se è strana, anche se tu sei molto più simile a lei che a me. Quindi, non possiamo né io né te parlare di una situazione di normalità e questo purtroppo la farà soffrire, però sai, da qui a dire qual è il metodo migliore per crescere una bambina, una bambina sopravvissuta, chissà, non lo so. Lei scuote la testa, evidentemente. Io dico solo che ha bisogno di tempo. Eh, ma il tempo ce l'avrà per forza. Cioè, non è che scade. Il tempo non è che va via, o qualcuno gliela luba. Starà comunque con noi, certo, non la sottoporremo agli stimoli necessari, o la premeremo per imparare, o per rendersi utile, nel senso. Sandro, fatti un piatto di cazzi tuo, è condito con, non lo so, alcol, così almeno smetti di rompere i coglioni. Direttore di voi c'è Sandro, cioè in realtà dietro Shalelo. Sposti la testa per vederlo e lei, con una catasta, una pila di ciocchi di legna in mano, sembra visibilmente appesantito, stanco, quasi come se stesse per crollare tutto a terra. Dai, dammi qua che sei vecchio, è inutile, veramente. Accidenti a voi. Devo farmi un sorso. Tu non dovevi venire sulla corona del mondo, tu dovevi scegliere una buona pensioncina dove spendere il resto dei tuoi giorni, altro che. E cosa pensi che farò dopo questo diato? Saremo ricchi sfondati. Sarò lì a guardare il castellino di lei, verrò un bel po' di sacchere minca in mano. Cazzo, tu sì che pensi in grande proprio, si vede proprio. Non vedi l'ora di scolarti il sacchè? Cosa ti ho portato a fare? Cioè, letteralmente. Solo perché la corona è tua. Terribile. Sulla sua faccia si presenta un sorriso a 32 denti. Ah, Kira, dovresti sapere ormai di che pasta sono a fare. È andata male, sì. Bastardo, se non fosse per questi giochi di legno ti avrei già ucciso. Ti tengono fermo i giochi di legno, non vedevo l'ora proprio. Dai, dammi qua. Vecchio, che non sei altro. Te ne passa un po'. Ne riprendo tutti, perché con la forza che ho di capacità di carico ne ho da un po' da vendere. No, ma lui in realtà non te li passa tutti per onore, nel senso. Cioè, lui lo sa chiaramente che tu sei più forte di lui, però metà se la tiene lui. E tipo, lo vedi visibilmente più affaticato di quanto non lo sia tu, ma che cerca di darsi un tono, una compostezza che non ha. Tipo si dira su con la schiena, no? E va e cammina quasi come un soldato in marcia verso il campo. Comunque a bassa voce, glielo dico, lascia stare prima che ti fai male e poi ti dobbiamo anche curare. Dai, non ne avrà male nessuno se mi fai fare a me. In modo che la sua faccia generale non venga intaccata, ecco. Lei si gira verso di te con uno sguardo stralmato. Ma cosa stai insinuando, piccolo bastarda? Ti faccio vedere io e inizio a correre verso il campo. Coglionazzo. Tauno, spostati, Tauno! Mi fai riflessi? Mi prendi per il culo? No. Ma Sandro sarà tutto enteghito, Dio buono. E gloria o morte in realtà. Ti giri di scatto e vedi Sandro che sta correndo, visibilmente sbilanciato in avanti, contro di te. Quasi riesce a evitarlo, però praticamente all'ultimo lui inciampa sul terreno e ti si butta addosso. Entrambi cadete a terra, diciamo, quasi abbracciati e arrotolati per qualche metro, con le legne che cadono ovunque. Io tipo lo guardo... Stupido, che cazzo ha la testa? Accidenti a te. Accidenti a me? Accidenti a me? Sandro, c'è... Ma alza un piede e lo tiro su per la collotta, lo metto in piedi. Accidenti a me, Sandro. Ma se non sei in grado di stare in piedi, perché trasporti tutta questa legna? Dai qua, vatti a fare un goccio che hai bisogno di caricare le batterie, le energie. Le batterie, non so se era... Esatto, non è abbastanza. Nel frattempo, scusatemi, Améiko, che si trova lì attaccata con la schiena di uno dei carri, sembra ridersela di soppiatto. In Po e Koya, talcanto loro stanno meditando, ognuno ha la sua maniera. Però... Stai dicendo che Koya si sta drogando. Koya è super drogata. Allora, facciamo il presupposto che Koya, quando medita, fa sempre uso di oppio. In realtà, cioè, non è... È una cosa ormai una prassi. Ed è sempre stato così. Chiaramente lo fa più volte al giorno. Di solito, di solito tre volte. Fa mattina... Cioè, insomma, colazione, pranzo e cena. E in Po, invece, sempre ad intonare una melodia piacevole con la gola. Qualcosa che ricorda molto il canto di gola di Akira. Però, allo stesso tempo, è qualcosa di più... Morato. Dopotutto, è un chierico di Shaline, che ha anni ed anni di esperienza alle spalle. Per lui, cantare, esprimere l'arte della sua anima, è come bere un bicchiere d'acqua. Dunque, il campo... Dunque, il campo... Il campo... Cosa? Non l'avete sentito? No. Forse era in ritardo a stile Alien Benji, perché era grosso il campo. Il campo viene allestito in qualche ora, e nel frattempo... percepita, quasi progressivamente, quasi come una forza che si fa sempre più imperante nella vostra testa. Una specie di impulso che vi spinge ad avvicinarvi al lago. Cosa che non avete ancora fatto, perché... Il paesino sorge poco distante, non proprio sulla riva stessa, e Ulf non ha ritenuto necessario, almeno per il momento... Diciamo, andare in massa verso la cosa che aveva già fatto lui. Questa cosa nel corso dell'ora diventa sempre più forte, al tal punto che... quasi vi rendete conto che voi tre, io e Amerigo, proviate la stessa sensazione. Cioè, vi guardate negli occhi e... e quasi capite cosa state pensando. Avete un senso di... la cosa vi trasmette un senso di... irrequietezza. È... è qualcosa che viene dal vostro inconscio, qualcosa che non riuscite a spiegare, a concludare. Considerando che sono passate delle ore, quindi è anche notte. Anche prima era notte. Eh, infatti, cioè... dicevo quello, cioè... Sì. Il giorno 3 è venuto e anche è già finito. Sì, sostanzialmente sì. Non è ancora passato, ma mancano ancora diverse ore. Io diciamo che... allora mi sento come se... le stelle mi stessero guidando verso il lago. Hmm. Ok. Anche voi, altri, siete... siete inclini a... a venire trasportati verso il lago. Una domanda, ma non sembra... cioè non la sentiamo... Non ridondante, nel senso... Esterna. No, intendo... come se già avessimo vissuto sta sensazione, perché... Ora, se non ricordo male, in città lì a... Ci siamo arrivati a caso, in realtà, alla torre. Eh, però quando stavamo lì alla torre sentivamo... È un'ottima... è un'ottima... è un'ottima domanda per spiegarci, sì. Fatemi un tiro di... Mmm... Una prova di... Senso motive, tipo. Sì, senza motive è meglio, sì. Banalmente, basta avvicinarsi. Se Spivey esce dalla tasca incazzata perché sta... Avendo vibrazioni negative... Perché l'ultima volta è successo così. Vai, senza motive. Pure dado. Tauno. La... Qualcosa della tua natura riflessiva che ti aveva concesso Shizuru prima della rinascita ti è... ti è rimasta. Eh... Diciamo che mentre i li catasti di legna ti adoperi per aiutare in generale la possizione del campo, rifletti un po' su questa sensazione che provi. E poi ti rendi conto ad una certa... Come una specie di illuminazione che è la medesima sensazione vissuta poco prima di entrare torre nel quartiere di Giada. Quella torre così misteriosa. Quella specie di sogno strano che abbiamo fatto, quindi. Esatto. Quella torre collegata, diciamo, al sogno. Voi ricordate solo di essere entrati e di esservi svegliati all'esterno. Io cerco di raccogliere... di raggruppare i miei fratelli e... Ameiko. Loro sembrano... Cioè, no, allora... Calma. Ameiko. Per quanto riguarda Ameiko, lei sembra come saper già cosa... cosa tu le vuoi esplicare. E voi, dal canto vostro, diciamo che interiormente vi sentite nella stessa... nello stesso modo. Cioè, sapete che Tawno vi ha convocato per un motivo. Che succede? Immagino che... io non sia l'unico che sente questa impellente necessità di visitare il lago. Sì, l'ho sentita anch'io questa strana sensazione. Però non so da che cosa possa venire. Il mio animo suggerisce che... un'inaspettata e nuova situazione si sta per presentare a noi. Ricordate a Kalsgaard. Non dovremo opporci a questa situazione. Ameiko incrocia le braccia e sbuffa. Basta, mi sto già chiedendo da qualche ora perché cavolo siamo andati qui da aspettare al campo. Su via, andiamo a vedere cosa c'è. Io mi ricordo il concetto delle prove che avevo ragionato al sogno. Cioè, in quello che noi ricordiamo come sogno, dico. Ti ricordi che sono un sogno molto faticoso ma è allo stesso tempo come se dentro di te qualcosa avesse trovato... No, dico non il sogno per intero però perché l'altra volta nella torre avevamo fatto dei test insomma avevamo stabilito... Sì, sì, però non te le ricordi nel senso sono cose molto sfumate che appunto ti ricollegano alla sensazione di uno sblocco interiore di qualche tipo. Oltre a ragionare sul fatto che questo sogno sembra ad una certa sembra che sia durato quasi eone. Beh, do una pacca sulla spalla ai miei fratelli poi guardo Aidan e dico no, infatti anche io non credo che dovremmo porci andiamo. Bene. Spive viene nella mia tasca Spive viene nella tua tasca ok, allora la faccio uscire Lei si si alza in golo stiracchiandosi sai che non ha bisogno di tornare fisicamente ma lo fa lo stesso per sfizia per pigrizia cosa vuoi Aidan? Mi dispiace interrompere le tue attività ma vediamo che dovremmo separarci per un po' di tempo Ma perché? Non sei così comoda Spive io sono il profeta devi fidarti di me Scusa mi è scappata Cari mazio No, ma infatti anche io lo dico mettendola abbastanza sull'ironia Sì dopo tutto hai ragione stupido ormai sei ben più dell'Aidan incrociato è un po' Sì ma tu non dà il ricordo Spive però perché sennò ma tu non ti intromettere è veramente il profeta cosa vuoi sapere tu? Sì ma se deve essere ormai la silenzione Eresia quella che percepisco Non esiste ma male che abbiamo l'imperatrice e non l'imperatore perché sennò era un casino Spive però si si avvicina imperiosamente alla tua faccia e si blocca qualche timetro Aidan che non ti venga in mente di montarti una testa adesso però No figura ti stavo scherzando I profeti di Deathland sono sempre stati umili a modo loro nell'anima E tu dovresti seguire il loro esempio Fidati quando ti dico che lo sono era sto solo scherzando Spive Lei ti lancia un'occhiataccia mh sarà meglio E poi si vola via verso il campo cantando intonando una canzoncina una delle sue classiche canzoncine che vi allietano quando siete stramati quando ritornate al campo dopo una dura esplorazione una battaglia e per un attimo sentite questa gioia interiore euforica irrazionale prendervi il cuore fino a che il canto non si non espira in montananza e ritornate alla classica vecchia monotonia quasi depressa cioè lo ha fatto soltanto per farci sentire la sua mancanza ok a me guarda Spive quasi quasi imbambolata con un'espressione un'espressione divertita sul volto ma guarda quella stupida piccola fatina c'è questa a me sì perché vi ti ha detto gli stupidi continuamente questa cosa non l'ho capita a me è una cosa della corona del nord della corona del mondo a me si gira verso di te e sorride ampiamente stupida imperatrice così esordisco così inarca un sopracciglio e ti guarda con un'espressione complice incosce le braccia al petto ma chiera stupido demone devi dire se no non va avanti la conversazione non lo so forse ho preso qualcosa da spare effettivamente non mi era solito pronunciarlo così tanto spesso durante il giorno stupido giorno forse forse sto esagerando stupido acchire stupido andiamo andiamo lo stupido l'acqua e così vi incamminate con quasi un peso in meno la reazione di americo gioiosa scherzosa è stata sicuramente ben accolta un buon auspicio arrivati verso il lago chi riesce a vedere nell'oscurità lo percepisce come un grande quasi un enorme specchio d'acqua effettivamente si estende si estende così tanto verso l'orizzonte che quasi anzi non riuscite proprio a a capirne la fine effettivamente per me vale per me vale si vi rendete conto cioè chiaramente la vostra visione nitida termina dopo pochi metri però questa percezione quasi intrinseca quasi che coinvolge altri sensi come le orecchie sì in realtà più che altro l'udito e la vista che combaciano vi sembra appunto che davanti a voi si stagli qualcosa di enorme per i suoni che fai il rumore il rumore delle onde è quello è quello di un mare è quello che effettivamente ci sarebbe in un mare quindi vi dà la sensazione di grandezza di sconfinatezza il lago stesso è forse una delle meraviglie naturali più belle più acclamate per così dire della corona del mondo purtroppo però non avete modo di gustarlo a pieno perché è notte pure però qualcosa di questa sua maestosità virulare forse le sponde così esili aggraziate che danno direttamente sulla palestra enormi alberi pini che si stagliano sul lago stesso c'è qualcosa di magico in tutto ciò se solo ci fosse delle aurore boreali almeno ci vedremmo infatti vi beh osservate verso il lago quasi in attesa qualcosa fino a quando di fronte a voi una luce non inizia a pulsare una luce che proviene dalle onde che si riflette sulla superficie del lago stesso qualcosa che si fa sempre più grande sempre più intenso una luce che vi chiama vi attira a lei come una falena attirata dalla fiamma vi sentite quasi stregati intrappolati vi osservate intorno e notate un piccolo molo con una barchetta ancorata sembra sembra la cosa giusta da fare a me annuisce concordo andiamo verso l'ignoto è chiaro che quella luce pulsante in mezzo all'oscurità del lago sia una cosa perfettamente positiva eppure ci stiamo andando non ci schiamo fratelli cioè no in realtà questo discorso qui lo state tipo lo avete iniziato sulla riva e lo con lo Aidan dice eppure ci stiamo andando siete già sull'acqua e mare già a volte mi chiedo se essere un amatazzo che provoca queste cose o queste cose le avremmo trovate lo stesso anche se non essendo amatazzo non lo so non lo so se lo voglio sapere tutta tranquilla si guarda in giro no beh effettivamente non per cosa stia succedendo sì la sensazione è un po' questa ci scherzate ci pronizzate sopra però al tempo stesso è tutto molto io mi faccio serio come se capissi perfettamente cosa sta accadendo inutile cercare di capire amico dobbiamo lasciarci andare ma sentitelo proseguite verso verso la luce che distava non troppo dalle sponde proseguite 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 sembrano passare svariate decine di minuti vi guardate dietro di voi e non c'è altro che una coltre di nebbia fitta che oscura qualsiasi cosa e questa coltre sembra avanzare ogni qualvolta voi avanzate verso la luce ma davanti a voi no non c'è la nebbia c'è sempre questa luce pressante pulsante che vi attira sempre di più il sentimento che vi scaturisce si fa sempre più estremo sempre più barcato finché la barca va si io ho visto che prima di entrare avevamo comunque tutti pensato al sogno che avevamo fatto prova ad appuntarmi tutto quello che vedo in una pergamena per vedere se magari diciamo tra virgolette risveglio potrò ritrovare gli appunti o no non so se veramente sarà un risveglio perché è la torna che lo sappiamo infatti infatti per quello allora continuate ad avanzare verso la luce quasi disillusi eppure sempre più di trovare qualcosa quasi al limite della compunzione fino a quando un rumore assurdo potente vi rimbomba nelle vostre vecchie davanti a voi uno squarcio nell'acqua un vortice che si apre sempre di più un vortice che si apre per tutta l'apertura per tutta l'intensità il diametro della luce stessa prima che possiate far qualcosa da questo vortice iniziano a fuori uscire decili di migliaia se non milioni di falene luccicanti che volano verso l'alto in un vortice anch'esse la marea diventa imponente diventa pressante non riuscite anche se voleste a tornare indietro perché le onde ti spingono verso il vortice ameiko sembra terrorizzata ma anche eccitata al tempo stesso stai calma andrà tutto bene cosa sta succedendo la barca la barca si sta muovendo ecce lei tipo è aggrappata al sedile della barca mentre questa questa dondola e freme voracemente sotto il peso delle onde come imbalia del vostro destino in un attimo siete davanti al vortice crollate nell'abisso più oscuro venite risucchiate da questa acqua turbida che vortica tutto intorno a voi e prima che possiate renderveli conto prima che l'adrenalina possa pomparvi al cervello si fa tutto nero vi svegliate è passato un tempo cioè non vi rendete conto di quanto tempo si è passato ovviamente ciò che vedete di fronte a voi ovunque sui vostri dai vostri è una foresta una foresta fitta di pini una una flora assai diversa più temperata della corona del mondo il clima non è rigido non è pressante e soprattutto soprattutto la notte in qualche modo più estranea estranea? si è una sensazione che viene dal dall'inconscio cioè non riuscite è come se come se non appartenesse alla notte che conoscete eppure però sembra tutto il reto l'estima il cielo splendono come non mai un po' di neve c'è? no ok dove siamo? non riconosco questo posto non ho idea ci siamo tutti? a Meiko? si è lì con voi si sta massaggiando la testa che male la barca io me l'avevo detto che stavo andando accidente beh ma chiaramente siamo sul fondo di un vortice d'acqua guarda lei si guarda cioè tipo come se riprendesse conoscenza si guarda intorno con gli occhi strabuzzati strabuzzati e ah ma come dove stiamo? non capisco beh sei mai stata risucchiata da un vortice lei lei ti 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 asserva con un'espressione è una delle frasi che amo ripetere anche io sei mai stata risucchiata da un vortice beh posso guardare subito che era e poi diciamo che si gira la testa di scatto verso verso l'alto come se se la fosse presa siete come come direbbe spai siete stupidi vedi è proprio una maledizione ormai non c'è più non c'è più molto che possiamo fare e poi siete centri a voi avete sempre da scherzare perfino quando siamo stati risucchiati da un vortice assassino o di miliardi di falene volanti e cos'è questa foresta la cosa positiva è che almeno qui non fa freddo ma sai io do molta fiducia ai sogni e alle visioni e ho questa sensazione positiva adesso non siamo in pericolo Amelco prende uno dei suoi diari che si sta tenendo in queste settimane inizia a scrivere canzonando a te e fu così che i nostri eroi si ritrovarono nel pericolo più oscuro beh se già fosse vero quel diario non arriverebbe mai alla carovana ma la storia Aidan ha sempre lieto fine ah ottimo che caldo accidente Amelco inizia a spogliarsi dai suoi vestiti pesanti le pellicci chiantos e le butta a terra ah buona idea finalmente una cosa positiva di questo viaggio ci sono tracce intorno a noi siete su una strada sterrata che procede in due direzioni davanti a voi pezzato di voi tutto attorno è una foresta di pio cerco se c'è qualche punto di riferimento nel senso l'unico punto di riferimento che dietro di voi la macchina osservando un po' meglio dice questa foschia come quella che si è rappresentata sul lago come se qualcosa si stesse spingendo verso la direzione opposta cioè è proprio la sensazione che percepisci cioè quindi c'è tipo un anello di nebbia aperto in un punto è più che altro un muro di nebbia che ci sta dicendo andate dall'altra parte si è un muro è praticamente un muro di nebbia ok ok allora vabbè nel senso cioè volendo potete provare ad andare anche verso chi sono io per far arrabbiare il muro di nebbia voglio dire sono d'accordo ok americo invece è testata e vuole andare verso quella direzione però alla fine la convincete che non ne va la pena fa un passo si rende conto che no forse meglio di no procedete verso la direzione opposta dopo qualche decina di minuti di camminata iniziate a scorgere delle luci in lontananza che rivelano quasi subito la presenza di un villaggio il villaggio si presenta con uno stile prettamente mincaiano tette ricurve pareti di carta lanterne fuori dalle porte lanterne rosse vivide che segnano la presenza di ogni casa e rallegano al loro modo la lugubre notte per le strade non vi è nessuno guardo se ci sono segni di abitazione nel senso si sono chiaramente abitati questo lo potete capire istantaneamente ombre dietro le pareti queste cose qua fai percezione la faccio anch'io però magari cercavo tipo delle tracce ora che siamo tipo zampe a piedi allora devi farmi survival ah io penso che faccio percezione per la meno che tanto or sicuro non si ha percezione per trovarle per vederle dico proprio ti dici se potrebbe essere allora tu fai percezione per fare a uno per guardarmi ah si per guardarmi intorno no non ero sicuro che ero mutato o meno dunque Akira sei circospetto ti osservi osservi l'intorno effettivamente sembra non esserci anima viva in questo villaggio eppure però le case sono chiaramente abitate non vi sono tracce evidenti Aida osservi il terreno e noti noti anzi fammi appunto percezione ok nice tre non noti niente in particolare però ah Akira è uno notate vostro fratello che sta osservando quasi compulsivamente il terreno sotto sotto di lui sotto di sé che che stai facendo Aida penso che qui intorno ci debbano essere delle tracce no? qualcosa che possa aiutarci a capire chi vive qua osservate a terra voi notate quasi subito nella penombra effettivamente zoccoli come sospettavo ti do fuori la bambola forse ho fatto bene a portarla beh ragazzi dite se volete beh comunque vado mi avanzo verso dove sento i rumori dei zoccoli di maiale sentire i rumori degli zoccoli hai detto tu che sentire i rumori degli zoccoli no abbiamo visto la forma degli zoccoli sulla terra ah ok se li ho visti seguo se no continuiamo io procedo con scusè bene però no è dovevo tossiche dicevo procedo però sto pronto all'estrazione delle armi non mi sento troppo particolare e inizio anche a pensare che forse siano tipo stati trasformati quelli dell'altro village faccio pensieri così c'è una faccia pensierosa se vedi Ergobal con noi non c'è no quindi non c'ho l'elmo no c'ho la maschera dell'elmo ok beh sostanzialmente sostanzialmente le tracce sono molto erranti perché sono sono un po' ovunque sia davanti che indietro come se effettivamente fossero state tracce da tante tante persone una in particolare Akira forse tra le più fresche ti porta in un piccolo veicolo a ridosso di due case in cui trovi un individuo in fondo un individuo incappucciato osservato a terra con un piattino di fronte a sé sembra sembra stia congelando di prezzo ehi tu lui alza la testa il suo volto un volto di maiale un volto deformato appunto in questa in questo in questo naso allungato cosa stai calmo stai calmo non ti voglio fare da male chi siete voi siamo visitatori quindi parla comune sì ok cosa voi visitatori ma non ci sono mai stati visitatori qua eh questo è evidentemente la prima volta c'è una prima volta un po' per tutto no per me è la prima volta vedere un uomo con le tue sembianze quindi insomma è viva la diversità del mondo siete sempre stati così che domanda sarebbe scusami non capisco e poi fate piano occidente ci sono ci sono le guardie le guardie della cosa cosa sapete di questo di questo posto niente siamo appena arrivati shh parlate piano ci sono le guardie serpente belle le guardie serpente siete pazze volete forse volete forse sfidare il damio gallo il 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 damio gallo anche se non l'ho capito puoi ripetere una terza volta il damio gallo dove vivete scusami non qui come dicevamo beh sì effettivamente il il soggetto quanto strambo si alza di propria voglia vestito come uno straccione evidentemente un mendicante e si ripulisce un po' alla bene e meglio dalla polvere che ripopera tutte le sue bestie di un po' hai qualcosa da mangiare? sì immagino tiro fuori l'equipo delle razioni e tentano a non dargli del prosciutto potrebbe risultare parecchio non so del pane ciò che hai da dargli in maniera molto buona inizia scofanato tutto sì ci voleva ci voleva avete sempre abitato in questo villaggio? ma certo così noi noi siamo sempre stati sotto la guida del damio gallo però però non è che non senti a livello marziale cioè damio gallo mi sa più tipo damio gallo è il nome oppure è tipo dire lo straccione maiale il damio non ho capito in realtà però è un gallo o è un nome o un titolo? non puoi sapere non si intende eh ok sì 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 mi avvicino tipo mi vado in faccia per guardarlo più da vicino come per studiarlo e tu sei sicuro di essere sempre vissuto qui no? hai dei ricordi di quando eri piccolo? io certo ti ricordo di quando ero piccolo se provassi tipo detect magic su di lui vai ok devi dimmi cosa vedo non è che devo sì beh effettivamente allora quando i tuoi occhi si illumino di una luce bluastra l'individuo di fronte a voi fa un passo indietro sei un serpente lo sapevo non farmi del male per favore per favore no non ho fatto niente io non volevo dire quello che ho detto stai calmo non siamo serpenti non siamo galli non siamo maiali non siamo niente di tutto ciò se veniamo da fuori non siamo di qui sai in realtà sospetto che anche tu vengi da fuori ma tu non te lo ricordi non percepisci paure magiche mhm io beh il damio gallo ci opprime il damio gallo è cattivo e io non posso farci niente però ecco questo è tutto so che potrebbe apparire strano ma riconosci questa bambola? mhm no non ho idea di cosa off game scusa la bambola rappresenta un umano si cioè in realtà è molto è umanoide si si mh ok me la rimetto da posto mh mh dunque io non non posso non posso fare altro per voi mi dispiace beh potresti dirci dove trovare questo gallo lui alza il baraccio verso l'alto è proprio lassù sulla collina sopra di brisaggio però non vi consiglio di di provare ecco di avvicinarvi vi ucciderebbero all'istante come è successo già con tanti nostri sembra sembra un bambino o un solo sembra una persona molto molto ignorante molto no 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 voglio sapere ah fisicamente no no sembra un adulto ok appare come un adulto messere mi tolgo una curiosità che che tipo di situazione avete in questo luogo come si comporta con il popolo e il vostro damio io ve l'ho già detto molto crudele nei nostri confronti lui viene talvolta a rubare a rubare il nostro cibo le nostre donne e chi si oppone viene ucciso sul posto e talvolta fa delle cose brutte proprio proprio qui ecco io noi non sappiamo ormai cosa fare possiamo solo io estrago la spada lui tipo fa un passo indietro cosa fai? non dovete più rammaricarvi ah bene voi voi penserete ma non potete è troppo forte il damio gallo voi non potete niente non c'è onore per un io comunque il rango damio lo conosco si si quindi dico non c'è onore per un damio nell'approfittare e l'abusare e usare violenza nel suo popolo voi parlate bene ma cosa potete fare al riguardo? in nome del sole di Shizuru rimuoverò questo male da questa terra così che voi popolo possiate ergervi e trovare un un signore degno di tale onore e di tale onere a me cosa si fa avanti? è terribile tutto ciò noi ti prometto umile maialino che noi vi libereremo della morsa malvagia di questo verme di damio è gallo damio e gallo si bravo non è un verme lui mangia i vermi sei un gallo questo posto mi sta no no questo posto mi sta veramente mandando ai pazzi dovevo cercare qualcuno che no nel frattempo il maiale vi guarda si infatti anch'io cerco di soffocare la risata un attimo non preoccupatevi faremo esattamente quello che ha detto il nostro amico Tavo si vi guarda impaurito indietreggia qualche passa io adesso andrei se i signori me lo permettono certo che puoi andare non sei il nostro potete rispondere tipo si gira in secolo ok allora spero no no non voglio sentire nessuno parlare per i prossimi almeno 10 secondi interiorizzate quello che abbiamo appena sentito e visto e visto era un maiale umanoide che diceva di essere oppresso da un gallo che ha le guardie serpente e e e e e lei l'ha chiamato verme e gli ha detto non ti preoccupare maialino abeco sei seria si gira senza risponderti non so via era divertente ok però non so se è lo shock della situazione o cos'altro però effettivamente ha mai così leggermente ambigua più che indelicata direi è come se qualcuno come se qualcuno chiamasse diavoletto a tirare insomma eppure al di là dell'ironia di questa situazione abbiamo trovato quella bambola e io l'ho vista come se appartenesse a un bambino forse potrebbero essere veramente gli abitanti di quel villaggio e non ricordarselo potrebbe essere una situazione drammatica beh sicuramente c'è qualcosa di molto strano qua sotto quindi dobbiamo cominciare a cercare qualcuno che riesca ad avere un minimo di visione più ampia della cosa questa torre potrebbe non essere del tutto illusoria come l'ultima perché Andrea scusa in effetti l'ho detta un po' come se sapessi troppe cose sì infatti no scusate niente allora niente no tu lo dici poi ti rendi conto sì no ok ci sta poi ci ripenso e faccio uno sguardo un po' stranito sì a me non sembra dar peso a quel che hai detto forse più interessata ad esplorare meglio questo villaggio e quindi vi incamminate è un villaggio abbastanza piccolo in realtà forse qualche centinaio di anni è il massimo io tengo attiva l'individuazione del male perfetto c'ho una domanda gli altri sentono freddo cioè è ancora freddo no cioè vestili come siete avete vi siete tolte un po' di zavorra però avete l'arcivo necessario per essere abbastanza esperti il clima probabilmente è autunnale per una zona come la varisia ecco cioè nel senso è un clima mite quel che voglio dire è che non fa niente un po' di zavorra ne è troppo grave state camminando per le vie del piccolo paese vi ricordo un po' il quartiere di Java di Karlskraft ma a suo modo è molto più caratteristico molto più rurale quando ad una certa un fischio provenire da un vicolo oscuro attiro la vostra attenzione mi vicino a guardare vedi tu che hai il dono della vista notturna vedi un individuo incattucciato a sedere attaccato al muro lui non sembra avere le stesse fattezze del Magliari ma non lo giureresti perché è più bardato più incattucciato perfino dell'altra l'indicante ma va vicino lui come ti avvicini senza distorsi del tuo sguardo dal terreno inizia a parlare sapevo che sareste venuti eventualmente l'avevo scorto nelle varie possibilità che il destino ha da offrirci o sì sapete questa gente ha bisogno di voi ma qui al villaggio non troverete nulla che possa fare al caso vostro spingetevi nella foresta nei pressi del villaggio forse lo troverete subito in vecchio tempo in Isusa ormai circondato da serbi del Danio Gallo lì è dove troverete più risposte alle vostre domande che suppongo siano molte partiamo con quelle più semplici chi sei? l'individuo alza lo sguardo adazza di te non riesce a scorgere il suo volto perfino perfino con la tua con la tua visione il suo volto sembra in qualche modo occultato l'unica cosa che percepisci sono i suoi occhi completamente bianchi cieco e Laura? non è malvagio io sono e non sono sono lo spazio e il tempo sono tutto ciò che ti circonda e nemmeno questo posso essere te posso essere Akira oppure Tauna ma anche a Meiko posso essere il tagno gallo o quel maialino che avete incontrato poco fa sta a te a decidere sei di questi luoghi io sono ovunque da nessuna parte bene lui ti sorride Akira molto in maniera molto sarcastica tagliente ingente dunque dunque cosa state facendo ancora qua osservando lo spazio e il tempo perché mai dovremmo andare in quel tempo anziché affrontare il da perché voi siete troppo goliardici amici miei pensate che goliardici avete questa idea fissa in mente di poter spaccare sempre tutto e tutte ma forse talvolta di fronte a voi si potrebbe presentare un cammino ben più arduo delle vostre aspettative dunque perché non ricercare più domande più risposte alle vostre domande piuttosto che buttarci a testa bassa contro il damio nella sua fortezza è protetto da cina di guardia in vero la tua non è un'osservazione sbagliata ma come siamo stati individuati o abbiamo incrociato quel passante e guardo verso la collina adesso anche da lassù potrebbero averci visto chi può assicurarci che mentre non perdiamo tempo secondo tua indicazione nella foresta alla ricerca di un tempio di risposte da lassù qualcuno non mediti e non ponderi di fare una piccola rappresaglia solo il tempo potrà dirlo solo il tempo io lo guardo come per dire dunque il tempo e lui ti guarda decisioni 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 che fanno presa la svelta vuoi indugiate troppo conosci il tuo nemico conosci il terreno dove combattere conosci le sue debolezze e il suo numero andremo al tempio ma verrò a cercarti se scopro che questo è solo un inganno lui non ci farà altro che far perdere tempo lui passa il tuo il suo sguardo su di te anche tu credi e poi lo posa su di te sarò io a trovare voi tu potrai cercarmi ma mai non abbiamo tempo per quest'ora è ciò che ho detto io stesso forza andate guardo gli altri due gli altri tre scusa c'è anche Michael che vogliamo fare a conti fatti una battaglia contro un signore contro un damio underbè effettuata con le giuste conoscenze così a capofitto sarebbe quasi alla stregua di un suicidio inoltre voglio esplorare il più possibile questa visione questa esperienza per me conviene andare al tempio se il tempo ci dice di andare al tempio non vedo perché che è digli di no anche perché voglio dire queste guardie serpente non sono nemmeno in giro per la città non le abbiamo neanche viste quindi magari ancora non è il tempo di affrontarle se non le abbiamo ancora viste voglio dire ricordiamoci come siamo arrivati qua siamo discesi da un turbine nell'acqua e poi ci siamo svegliati in una foresta non è propriamente un posto tipicamente normale quindi io guardo Ameiko che per ora è stata zitta beh Ameiko in tutto questo sembra essere molto molto ripetibile ma sono io che laggo oppure stiamo tutti un po' avendo problemi di aggo no sicuramente sei tu che laghi perché le volte ti sento male sì beh a questo punto come Ameiko si sente osservata il suo sguardo su di te in arco un sopracciglio perché mi guarda così Aiden dopo tutto sei tu qua che prende questo tipo di decisioni ecco io non posso far altro che seguire il tuo consiglio non me ne intendo di tempo spazio chi che sia va bene allora andiamo al tempo per me basta entrare in azione Pempio o Castello entrambe le opzioni sono ben alla nostra portata in marcia Ameiko sembra essersi un po' fomentata per diciamo per ciò che sta succedendo e vi girate percorrete la strada ecco percorrete appunto la strada per ritornare sulla strada principale quando senti una voce quasi sussurrata alle tue spalle ti giri per capire la provenienza e l'individuo sempre appoggiato al muro per terra ti sta osservando noti una ciocca di capelli verdi che scende sul collo la sua aura non è malvagia di nuovo camaleonte tavola si gira estremamente la sua aura ai capelli verdi sei stronzo intanto notando questa cosa tipo sorrido faccio un mezzo sorriso diciamo prima di giro e riparto verso il tempio ah ma era sempre quello di prima si a me mi erano saltate le parole io pensavo che era un altro tit coletto a chat e questa cosa comunque appunto l'hai vista su tutti gli altri stanno camminando hai sentito un zussurri sei girato proseguite su vuoi fare di take magic no 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 scherzavo proseguite sulla strada principale come vi era consigliato il tempo e arrivate ai pressi diciamo di ai pressi non da dove siete venuti ma un'altra strada che va verso la foresta e camminandovi camminate giusto una decina di minuti quando in mezzo al fogliame al fogliame scocchiete una ratura di fronte a voi un tempio si staglia davanti ad essa chiaramente una pagoda una pagoda ad un livello solo quasi del tutto in disuso decaduta arrampicanti si si inerticano sulle sue pareti sul tetto fili d'erba erbacce varie sono spuntate un po' quella chiaramente è abbandonata davanti ad essa delle guardie delle guardie dall'aspetto serpentino vestite come dei samurai stanno pattugliando la zona sono in tutto quattro due sono ferme ai lati dell'ingresso e due invece stanno camminando avanti dietro sono guardi cioè sono serpenti proprio no sono umanoide all'aspetto serpentino quindi non tipo uantico la coda no no sono tipo serpent ah ok quindi sono proprio umanoidi non mostruosi no sono umanoidi esatto immaginate appunto guarda scusa ma tipo il viscanio no si chiamano viscanio no il viscanio è un letteralmente un uomo cioè dall'aspetto sono tipo questi no sono proprio sono proprio così ve l'ho vinto solo che non hanno questa armatura sono vestiti dal samurai però sono fatti così argoniani senza coda ah no voglio voglio alzare la coda sono brutti eh voglio alzare la coda comunque ok noi siamo qui tra gli alberi e li vediamo si esatto io lo so che sono ripetitivo ma sono malvace sono malvagi sono malvagi cambia l'approccio mica peraltro sono sono corrotte le loro aure come c'era da aspettarsi li osservo fare vedere come fanno le ronde allora le ronde proseguono davanti al tempio diciamo che circondano un po' il suo perimetro per tutta la radura della foresta che non è ampia sono distano giusto qualche qualche metro dall'entrata della foresta vera e propria dove siete voi e percorrono questo perimetro avanti e indietro vedi che ci mettono veramente pochi minuti se la prendono anche abbastanza comodo cioè vanno lentamente e ci mettono pochi minuti per arrivare da una parte all'altra c'è un momento in cui sono divise uno a uno no vanno insieme giustamente e capite dalla grandezza del tempio dal perimetro che diciamo il rumore di fronte nel caso voleste attaccare le due guardie che sono stazionate attirerebbe subito le guardie che le altre vorrebbero esatto cioè non c'è modo ecco di fare rumore senza che le altre sentano perché siete veramente troppo vicini metto sulla matto brava potenzialmente potremmo aggirarli con i miei incantesimi voi siete lì potremmo tentare di affrontarli voi siete guardate qua guarda da quando mettete verso potete farlo sì perfetto qui c'è la foresta insomma tutta circondata la big detailed map vedo che c'è c'è la ricerca linguistica una mappa no finita è un po' è cubismo è la foresta cubista della serie che malevi ci te fa una pipa in realtà è una foresta di minecraft ok dunque il vostro approccio eh ma dove sono i serpenti adesso in questi ve li metto io direi che intanto siamo un perlino più lontani e poi tipo ci castiamo scudo voi ne avete bisogno o no tanto puoi castare solo su te stesso eh ma abbiamo la bacchetta non è l'incantesima eh ok comunque funziona solo su te stesso eh ma ve la do tipo eh dammela eh nel caso vai eh io non ce l'ho a usare con gli immagini e non too bad questa è la situazione tolgo i tuoi luci allora bravo bene senti dopo averli fissati per un po' quanto sono forti le aure sono leggeri sono sono deboli chiaramente non non ti sembra l'aura di un chiarico di qualche timinità malvagia sono solo creature malvagie esatto ormai sei così abile che riesci a discernere appunto le sumature delle aure in questa maniera loro sono creature malvagie però il fatto che tu riesci a percepirle indica che non sono avversari proprio perché pensai che sono troppo esseri io comunque propongo cioè ve le dico potremmo circonnavigare il tempio fino a raggiungere il lato opposto e aspettare la ronda e aggredirli cioè non aggredirli scusate e affrontare affrontare intanto la ronda cioè intendi cercare di colpirli separatamente anziché colpirne quattro qua colpirli due alla volta quegli due sopra e poi apparendo tipo dai lati le prendiamo o comunque se anche sentono la battaglia ci mettono un round di vantaggio perfetto allora magari aspettiamo che questi vadano tipo qua e poi attacchiamo questi sì esatto dicevo tanto ci abbiamo il tempo per ora sembra che ce l'abbiamo no quindi con calma gira andiamo di qua tipo andate ok spostatevi fatemi stelta spostatevi ma per andare dove scusate dalla parte opposta del tempio ma non possiamo aspettare che loro vadano di là ma qua ci sono le ah si ok la stessa cosa effettivamente ah beh non facciamo il tiro si perché voi effettivamente se vi abbassate tanto se per qualche motivo facciamo rumore semmai è peggio quindi aspettate che loro siano qua e poi castiamo scudo e attacchiamo vai tirate l'iniziativa e poi chiaramente turno di sorpresa mettilo metti il turno order per favore sì eccolo mettetevi in it in it la merda vabbè loro agiscono tutti insieme questa cosa abbiamo fatto entrambi 3 ta1 però io ho fatto 3 ci prego sono un divinatore roll allora allora vai chiaramente agisce prima Akira hanno fatto 0 vero loro si hanno fatto 0 no dai seriamente Akira ok turno di sorpresa davanti a te davanti all'entrata del tempio i due prima di decidere di agire tiro con una move action con una move action tiro martial flexibility e mi metto martial focus e e shield focus quindi più uno CA più uno i danni quindi poi il turno e poi mi zappo la bacchetta è quello il turno che ho fatto prima poi dopo quel turno in cui cosa carico quindi al tour quindi si il turno le sorprese è quello in cui carica però puoi fare solo un'azione standard carica può diventare un'azione standard se non puoi parziale eh si la carica parziale ok puoi carichi soltanto al tuo movimento invece che al top ah si si mi ero mi ero scoperto sta cosa vai mi sa che è morto sicuro l'hai preso sono 29 quelli ti dedico subito aspetta è fatto un bel sorriso allora praticamente ti lanci alla carica contro contro il serpente lui lui sembra sembra effettivamente colpo di sorpresa strabuzza gli occhi entrose qua e tipo mentre sta friando la frase tu lo colpisci violentemente allo stock lui sputa sangue dalla bocca resiste me la farò pagare e poi ci spiegarete come degli umani sono giunti fin qua spie cosa? spiegare che cosa stupida umani ci sono solo io praticamente umani ah no anche a me ecco magari non sanno che siamo umani vabbè sicuramente probabilmente non ha le corna alla fine Akira sembra umano solo le corna voglio dire è rosso ha le rocce sulle mani si è uguale veramente molto tipico parisiano con le roccette in mano molto effettivamente ad un umano rispetto ad un maiale o un serpente quello sono d'accordo allora chi lo sa perfetto turno di sorpresa Idan ok allora facciamo così tiriamo di 20 delle meraviglie spap fammi vedere abilities con 15 posso ah posso castarli tutti e tiro allora e perché tiro velocità qui su di noi perché non penso di poter prendere anche lui vai quanto è il movimento qua 25 quindi ci arrivo tranquillamente no aspetta perché non ho messo pathfinder vabbè tanto c'ho 40 comunque ci arrivo dovrebbe essere 30 al turno di sorpresa non posso fare un completo sul turno di sorpresa no ah accidenti puoi muoverti in qua in realtà lo faccio su noi tre e non a me ma però su noi tre e non a me perché deve essere un attimo che entra tra un e un altro però non può dicevo il colpo di ass e ce l'ho guarda puoi fare la carica puoi fare la carica ah si si perché è high east quindi puoi fare la carica hai tirato haste che belletà posso fare un full round con un full fiolarri con haste tirare un secchio di dadi bello scusate se ripeto la domanda quindi comunque il secondo attacco non lo faccio no no solo il primo quello di aste ok no non è quello di è solo un attacco e basta haste entra solo se fare un round completo eh si si era quello che chiedeva allora colpito della carica preso quindi sono 22 danni il serpente di fronte a te grida ti rabbia quando gli spezzi il fiato ah chi è? eh ti lo sa chi ho di dadi direi che è morto direi che è morto si descrivi pure beh quando lui mi dice ah parleremo faremo io semplicemente mi faccio sotto in maniera aggressiva e con entrambi i pugni tiro il doppio pugno allo stomaco e quando si si abbassa per perché gli manca il fiato mi aggrappo alla sua nuca e gli sfondo la faccia con una ginocchiata perfetto non spiegherò proprio un cazzo a nessuno sai serpegnella quanto è di cia tra uno per te 23 23 no aspetta si 23 tanto se mi dava qualcosa a stembro sono dieci danni il serpente di fronte a te con la katana che teneva in una mano la impugna anche con l'altra mano la prende per l'elsa te la tira te la tira attosso evidentemente un fendente verso il petto perisci verme ma io ghigno assomiglio mi butto un verme in realtà aiden è proprio una roba io estraggo la bacchetta di raggio rovente e preparo un'azione quando uno di sti due coglioni fa per intervenire e lo colpisco l'americo tiro fuori gli zamisen inizia a suonare una melodia aritmica veloce l'avete ispirare con l'age colpi due due su roma così insomma lo sapete è il bonus classico di ameco sì che dà il pilo d'attacco e ai ts contro favore ma tanto quelli sono immune allora io gli faccio una bella full round action e poi mi curo con anzi per fare la più figa mi batto il palmo sulla mano che mi batto il palmo sul petto e poi gli faccio l'attacco quando lui dice perisci io dico provaci erano di sell che carini stanno venendo in corpo a corpo da soli che bravi anzi si lo uso perchè se questi mi crittano aspetta ecco la sua swift action se lo faccio su dei miei ah ok si scusate ok e ora e poi gli faccio un full attack un full round vai ma adesso inizia a sussurrare mi mancava minchia ah no ma io non faccio d'acqua che cazzo hai fatto sei sicuro hai fatto una caterva di d'acqua che vista descrivola pure beh essendo che con assi c'ho il terzo attacco come con il lupo faccio i movimenti sono sempre quelli quindi attacco dall'alto attacco dal attacco orizzontale e poi attacco da fondo e nel farlo dichiaro cioè tipo dico voi servite un maestro si un maestro cioè un voi servite un despota che non ha rispetto del suo popolo sarete voi a perire non voi e a fondo mentre pronunci queste parole la tua lama colpisce diverse volte il corpo ormai inerlo sconvolti dallo stuo e dallo sconcerto e quando finalmente infili la tua lama le sue budella e il suo sguardo si fa più diciamo i suoi occhi si dilatano e ti osservano riesce a vedere riesce a vedere la paura che gli afferra il cuore le sue mani ti afferrò il braccio con una tale potenza da lasciarti inerme ma poi lentamente lentamente perdono la presa sfoderi la katana nelle sue budella e il mostro cade ai due piedi prima in ginocchio e poi buttandosi a terra con la faccia rivolta verso il passo in un bagno di freddo va a chiedere allora aspetta visto che non me l'hai fatto fare si sono portata a tiro con la bacchetta vai ok preso e la prende l'altro l'altro guardia serpente stava correndo tutta convinta con la katana squinata verso verso Tau quando improvvisamente dalla foresta parte un raggio che la colpisce in primo petto libero c'è la armatura tocca a chi da prima ah si a ritardo ok adesso agisco prepari un'azione no a ritardo alla loro e dopo di loro loro devono attaccare esatto ah si perché ho preparato l'azione appena spunta ricca l'azione preparata oppure ritardi il turno e prima agisco a loro no ritardo a 4 che è contemporaneo a loro però ho più destrezza quindi agisco prima io e allora non fanno quel movimento lì loro scusa ah ti hai ragione si si allora si allora si ritardo dopo no no ritardo al dopo intanto c'è un shield focus voglio dire scudo e shield focus ah sai che shield è inutile per me e vabbè vabbè grazie la tua armatura devi schivare tant'è che ti senti sfiancato ehm tauno aspetta tocca a me adesso ho ritardato eh no aspetta no perché devi agire prima il quest'altro ah ok diceva diceva tauno nel senso che tu è un uomo ah ok esatto tauno si getta su di te umanoide serpentiforme che spunta dal lato opposto del tempio fortunatamente però sei ancora in estasi dal colpo di prima e come si come arriva su di te con la katana tu riesci a girarti profisamente bloccando col colpo mettendo la katana orizzontalmente vai Akira scusa mi hai fatto 15 danni prima 12 quindi segnale 7 che 5 adesso te li tolgo tolti quindi metteteli tu si si già fatto allora arriva lui con la katana io lo prendo male nel senso che devo parlarle in malo modo per riuscire a non farmi ammazzare poi ghigno adesso tocca a me però vabbè si lo sai perfetto descrivola nel momento in cui la katana impatta contro la mia armatura con un movimento molto veloce afferro la mano con la mano sinistra quella che tiene lo scudo la apro appena il necessario per afferrargli la sua la sua mano che ha portato il colpo e poi con una metodicità assolutamente violenta e agghiacciante con il primo colpo gli spezzo il braccio con il secondo colpo gli spezzo l'altro pezzo del braccio e poi con l'ultimo il rappianto in faccia per ammazzarlo del fatto che è il critico finale si perfetto lui niente cioè non c'è niente da giugere in realtà non c'è niente non c'è niente non c'è niente non c'è niente io faccio la stessa cosa sempre contro l'ultimo rimasto ok preso e continua a tartassarlo lui si gira verso di te vieni fuori cotardo fatti vedere la ragazza come è una donzella innocente spunta della foresta saltellando lo stocco in mano eccomi qua e si getta sul 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 serpente la vedete la ragazza è così così agile così aggraziata che quasi akira ti distraggono dal combattimento ti fermi un secondo in un bambolato a guardare le sue forme a guardare il modo in cui si muove sul campo di bandaglia il modo in cui va a piantare la lama tra le scaglie dell'armatura dei serpente il modo in cui sorride ok tauno si io diciamo che non te l'aspettavi questo intervento così ripetuto ti è merito beh anche se lei non lo può vedere dalla maschera comunque tipo sorrido apprezzante insomma soddisfatto di questa sua spinta e faccio un passo tattico qua e poi faccio un full babba cioè un full attack lo devo recuperare sostanzialmente cosa cosa accade ameiko ameiko ficca lo stocco tra le costole dell'avversario e poi vai scrivi beh appunto ribadisco lancio un rapido sguardo di apprezzamento insomma verso ameiko e faccio subito uno scatto laterale quindi stavolta il primo attacco è quello orizzontale poi sollevo la lama la calo cerco di calarla sulla spalla quella che porta la katana quella che brandisce l'arma e infine affondo da dietro la schiena verso l'intestino tirando tirando verso l'alto ok mentre mentre il serpent è bloccato trattenuto nella presa di ameiko quasi come se non se l'aspettasse effettivamente tu repentinamente gli tagli via un braccio col prometto perciviso marcato e poi con una tecnica che ormai hai fatto tutta tua perché come sai i samurai non sono soli affondano l'arma indietro c'è un passo e porti porti praticamente l'arma dentro la schiena del tuo avversario trapassano da parte a parte il quale stravazza terra senza fiata sono resistenti ad ogni modo davvero mi giro guardando akira con lo sguardo tipo si beh non sono andati giù al primo colpo al tuo primo colpo vedete che questo questo c'è il braccio arricciato è tipo spezzato in tre punti le loro scaglie sono tutte dello stesso colore cioè scusa la prima domanda è sono tutti dello stesso colore i serpenti ce n'è qualcuno di un colore diverso sono tutti dello stesso colore sono tutti marroni dall'altro vai vai li tocchiccio con il piede nel senso sono effettivamente dei corpi vivi cioè quando eravamo sulla torre dall'altra parte perché dato che Aidan prima ha parlato eh ma la torre di qua di là cioè un pochino mi ha mi aspettavo che questi qua si scomponessero si 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 dissolvessero come era successo con gli altri ninja che c'erano altri in più sì esatto esatto e invece questi no vai vai scusami non voglio interromperti vai e invece questi no quindi lo vedete che è un attimino non preso male ma insomma tipo ok nel senso non capisce esattamente cosa stia succedendo perché si aspettava una dimensione molto meno reale ormai così avvicina la ripulisce la lama tutta soddisfatta sul suo sul suo bracciale ballare in fodera si guarda attorno che strano provate la mia stessa sensazione c'è qualcosa che non mi torna beh di base penso che non sia esattamente normale la situazione ecco ma no è una situazione scratevole nel senso che è come se inconsciamente mi aspettassi morte diversa non ho capito se aspettassi una morte diversa non so come se in realtà non so dirlo però sono rimasto deluso non riesco a capirti amico no neanch'io ma l'anfrentino di me non intendo che intendo dire che mi aspettavo che succedesse qualcos'altro ecco eppure sono accaduti come come dovrebbero cadere ma non mi aspettavo questo non so non so spiegarlo nel senso non ti aspettavi che rimanessero così già ah quello non me lo aspettavo neanch'io io raccolgo un campione di sangue da uno dei serpenti caduti intendete che sembra fin troppo reale sembra più reale di quanto non sembrasse all'inizio prendi il sangue sulle tete e lo strofinite effettivamente rimane cicato per quanto posso fare una conoscenza piani andrei ok sì 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 e non una fiara allora non ti soffiere niente in particolare che ti possa aiutare in questo contesto se non che qualcosa probabilmente nel caso fosse si è si è rafforzata si è a suo modo potenziata eppure però non siete certi che lo sia diciamo che potrebbe grandissimo essere tutto reale per quanto la situazione sia particolarmente strana non c'è modo di definire effettivamente se sia reale oppure no vabbè non mi interrogo più di tanto nel senso era soltanto una sensazione che c'è rimane lì e me la tengo guardo Akira poi guardo Aidan e poi entriamo direi proprio di se è solo che non vedono il buio totale aspetta no no nerovisione nerovisione that's racist vabbè perché tu la vuoi vedere in quel modo ecco sono l'unico vino nero davanti a una porta ecco perché non ci vedeva in realtà in realtà la porta ah no perché guarda le nostre cose danno la porta è questa eh sì è un portone enorme ah ok non erano porte quelle erano quelle erano quelle ok un portone enorme che si staglia di fronte a voi come avete l'impulso di entrare il portone si apre leggermente lo varcate fate prendete lo spingete indietro senza 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 fatica senza sforzo e rientrate all'interno ciò che vedete di fronte a voi è un tempio quasi del tutto spoggio in decadimento rampicanti piante di quale tipo si sono avute a creare quindi nel corso del tempo la statua di fronte a voi rappresenta un uomo e una donna avvinchiati l'uomo in posizione del loto e la donna sopra di lui anche essa è ricoperta di rampicanti che non permettono di discernere a fondo le forme di ciò che vedete davanti a voi nell'angolo dietro la statua un'altra cosa che tiene la vostra attenzione è un albero un albero contorto completamente errante erratico con una forma prima di apparente significata eppure estremamente ricondioso per il resto il tempio è pieno di panche casse cianfrosali marie che nascondono l'ambiente ed in generale è quasi tutto in penombra se non per le poche candele e lanterne soffuse che illuminano la zona ma per esempio cioè quest'albero qua è uguale a quello che c'era davanti alla casa dell'acchila è una versione distorta di quel l'albero quindi mi avvicino qua per sentire se c'è la stessa sensazione di pace o no ti avvicini e senti una scratevole sensazione e se mi avvicino io percepisci la pace interiore io lo percepisco da qua che è l'albero del caos anzi da qua anzi da qua a Raikogian è come attirata da adesso io mi incino occhi davanti all'albero lo tocca cos'è questa sensazione così potente è come è come un orgasmo forse io riapro gli occhi e poi ve li chiusi per meditare come? no è come lo percepisco come un orgasmo sì c'è Akira che letteralmente balla intorno all'aura dell'albero voglio venire anch'io lei si gira verso di voi cosa c'è? ma non lo percepite beh è fastidioso è una sensazione di pace ma per me è molto fastidioso avvicinarmi non un orgasmo americo per me almeno e il fratellino mi sa che non lo sai com'è soffia sempre a fare i bambini vi stavo solo spiegando la sensazione più simile percepibile da dal contatto di questo albero semplicemente magari ognuno la percepisce in modo suo americo può essere io osservo bene la statua fammi religione sono psiche e coso di bam e bam volevi sei caduto volevi eh volevi si si la stavo osservando troppo sono scimicante sono appeso lì in mezzo tra le chiappe di lei e il pacco di lui allora in realtà diciamo spostando qualche foglia qualche rampicante è facilmente riconoscibile si tratta di una diciamo un simbolo molto comune nell'arte del cimeio qualcosa che hai visto raffigurato di volte nei libri che il tuo maestro ti ha propitato al puntare più giovane si tratta dello yab yum che letteralmente tradotto da una lingua piana a te sconosciuta ma diciamo che conosci alcune parole si tratta come padre e madre rappresenta l'unione primordiale della saggezza della compassione spiego sta cosa da Akira mentre quegli altri due hanno orgasmi piccolati saggezza e compassione dici eh vabbè non sembra proprio una posizione da saggezza e compassione è quella però beh in verità è una posizione di meditazione vorresti conoscerla io e la meditazione siamo due cose diverse beh quando io ti dico che vedo determinate situazioni come meditazione fare il pia la fauna no scherze parte sono serio questa posizione detta posizione del loto sarebbe per meditare raccogliere le energie si ma senza quella davanti però beh questa è la funzione tipica dell'unione dei due aspetti forse è per questo che amico ha percepito quell'orgasmo che chiedi gli occhi che è meglio Tauno sai che c'è di più però le tue conoscenze si no ma dico purtroppo non ho non conosco bene la lingua in cui sono scritti in cui erano scritti i libri del mio maestro e non so dirti di più Akira non era questo simbolismo a me il cosi gira verso di voi smettete di fare i bombini accidenti forse forse Aiden ha ragione nel senso è probabile lui lui percepisce la pace anteriore e ti ho l'orgasmo ed è come se fossimo un comunione in tal senso come 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 questa statua io mi ero mi ero seduto davanti alla statua tipo nella stessa posizione di lui ma mi sporgo tipo solo con la testa per guardarla sinceramente quindi un giro verso la statua poi verso Ameko fai un pensierino su di lei qualche pensierino guardando le forme di lei comunque perché no oh oh avete rotto il cazzo veramente lei comunque tutto questo è nel senso è sincera non è che lo fa in maniera maliziosa lei cerca veramente di svelare l'arcano mentre lo fate i cazzoni vabbè dai cioè i principi amatazzo non possono rimanere seri davanti a questa cosa no ma infatti infatti lei tipo lei si gira intorno e bignata lui è seduto davanti alla statua nella stessa posizione imprevisamente sentite un sibilio a provenire dal fondo della stanza dietro le casse rivolgo il mio sguardo austero verso quella direzione un sibilio serpentino e questo sibilio a Laura malvagia ti giri verso la fonte del suono e inizi a percepire un'aura sempre più forte di malvagità sempre più forte nel senso molto più forte di quelle di prima non molto però diciamo che concentrando la malvagità che riesce a canalizzarla dalla direzione in cui proviene e si fa diciamo più forte in un punto solo fino a definire Laura è un mostro astrisciante ha più teste che sporci dalle casse similato come una di esse quanto tempo ci mette a emergere dalle casse? quanto tempo prima me ne sono accorto che lui sta uscendo dalle casse? lo fa lentamente e vi osserva voi cosa siete venuti a fare in questo tempio dimenticato da Dio o quale? posso riconoscerlo? sì e con cosa? con aberrazione dungeon sì perché state sussurrando tutti? teoricamente dovrebbe sussurrare soltanto andare non riesci esatto infatti cosa stai facendo non riesci a a a definirlo a capire cosa posso essere voi siete venuti qua voi siete venuti qua in cerca della conoscenza perduta e vi siete lasciati dietro di voi come sempre una scia di morte e distruzione perché a voi in realtà piace voi adorate uccidere io conosco il vostro spirito la figura serpentina si fa sempre più alta si erge su se stessa ma non sembra avere una postura minacciosa lo fa diciamo solo per darsi un tono cosa mi dite di tutto questo cosa siete venuti a ricercare qua beh vedi caro amico serpente che ti argida i barili beh che non ho capito che cosa tu sia faccio faccio un passo qua e poi un passo qua per andargli vicino in realtà il punto fondamentale è che non sappiamo cosa stiamo cercando e il punto fondamentale è che prima di arrivare qui qualcosa ci ha guidato a entrare in questo posto il fatto che questo luogo sia dominato da serpenti come te che dominano maiali come loro beh mi fa venire voglia più che altro di spezzare il dominio di coloro che hanno evidentemente il cuore corrotto voi credete veramente di sfugire al vostro destino questo è ciò che voi desiderate nel profondo poi alza le braccia verso l'alto e si ritrae leggermente come saggiamente a spostarsi da te tipo in un batter d'occhio è sopra sopra appunto cioè tipo come se si tenesse con il corpo forse con una ventosa attaccata al corpo sulla parete sostanzialmente è tipo almeno incavo tra il muro e il tetto dove stai andando? Foi sciocchi no contemplate l'idea del massacro come una gratitudine del mondo stesso forse forse io mi chiedo non è così anche per voi che ovunque inviate il massacro vi segue come un mastino è solamente un caso un caso tu dici non è sembra che voi ricerchiate questo massacro beh non sono stato io chiamare il verme del gelo che ha sterminato un villaggio brutto stronzo non sono stato io a chiedere agli oni delle cinque tempeste di mandarci addosso eserciti di ninja mio caro sinceramente la cosa mi fa anche un po' incazzare il fatto che qualcuno si arroghi il diritto di venirmi a dire di come cosa sento e che cosa c'è nel mio spirito tu del mio spirito non sai un beniamato cazzo di niente hai capito quindi adesso se eviti di arrampicarti su come un gecko invece di essere un serpente quale sei magari possiamo parlare ti faccio vedere come parlo come parla Akira le sue teste similano all'unisono americo dietro di te ti metto la mano sulla spalla calma Akira poi alza la testa verso il serpente mamma mia come sei brutto lui muove le teste erraticamente il tempo delle chiacchiere è finito io otterrò la vostra testa così come è stato scritto dal destino perché voi saccomberete la distruzione saccomberete la morte e il sacrificio voi non siete altro che una pedina nella scacchiera del tempo il tempo reclamerà ciò che a suo ha rito la morte tagliamatazzo iniziativa 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 stupido chiederlo naturalmente aste non ce la vediamo no non ce l'avete ok ah un tau no eh io attimo smetivo lo guardo e faccio nessuno potrà portare oscurità nel cammino degli amatazzo noi porteremo la luce e dissiperemo tutte queste ombre e tu sei una di queste e poi tu amatazzo non comprendi la fatalità del destino e poi una testa vira verso di te Aiden tu va dietro dovresti sapere finito troppo bene ciò che ti aspetta forse te non comprendi la gravità del macigno che si staglia sul fiume del tempo stupido sciocco beh mentre parla faccio avevi detto che il tempo delle chiacchiere è finito e allora combatti ne ha sette volte di chiacchiere fratello lui come no aspetta come dicevo lui si è avvinchiato al soffitto quindi bandino gli arrivo alla coda o da qualche altra parte no ok allora non posso fare il completo non segnare il secondo attacco posso usare l'azione del movimento per attiva il coso di no in realtà è lei che lo attiva quindi ok ma non sei tu che lo casti no come sei tu che lo casti lei ti dà il potere di castarlo mica lo casta lei ah lei mi aspetta per esempio un'azione cioè un'economia abbastanza rompi l'economia dell'azione effettivamente si allora va bene non attacco attivo airwalk su di me e ti spinge verso di lui si che è meglio è meglio rendere grosso chi che deve rendere grosso taglia grande sì ho finito le mie azioni le ho finite ma dove è finito io tanto non posso diventare taglia grande non puoi eh no perché perché sono outsider nativo prossimo livello anche lui allora lo aspetta Andre lo casto su c'è dopo scontro che certe tattiche l'abbiamo in dis scusa quindi ti aspetti che io ti faccio diventare grande ora o al massimo coso è meglio che gli vado sennò perdiamo un turno così no quindi ti faccio diventare grande ok comunque sia io lo osservo sì forse hai ragione il macigno davanti a noi è enorme ma lo affronteremo insieme e coloro che hanno preannunciato la nostra morte continueranno a morire di fronte a noi e poi ingrandisco vabbè mi sposto automaticamente di qua ma ci stai ma lui è sopra di te quindi ci stai ok ma adesso sei a portata l'americo inizia a sordare il zame se ne scoppia una risata tu serpentella pensi di sapere qualcosa del viaggio che stiamo affrontando per liberare il nostro popolo tu sei solo un eco della volontà la distruzione di questo universo lui cerca di interporsi tra noi e la vittoria tu non affrai scampo di fronte alla furia di Amatazzo si ispira diglielo a me coi diglielo mamma mia me mamma mia oggi oggi c'ha bambina c'ha il pedo al culo proprio oggi diciamo che l'analizzata sta in qualche modo cambiando forse tutto ciò che è successo ultimamente l'ha resa più cioè ha smesso di landiare ha smesso di piangersi addosso era anche ora imperatrice tira fuori le patate e sbattire in faccia ad Akira che è contento uguale a negare lo scroto madonna quanto gli voglio tagliare via le teste un po' tarno come un cazzo di un cespuglio ma è che gli ricrescono tipo idra dal canto suo l'essere serpentino scazza velocemente nella relazione opposta non è ancora importante solo di tavolo però si no tu c'hai quello di volare quindi volendo potresti ma no si si no no si si scusa madonna ha sentito ha sentito non faccio niente adesso c'hai in mano la spada leggendaria beh se riesco ad attaccare un po' prima di te sui boss sui nemici normali sul boss è normale che li vada a fare adesso ho retrainato per far danno vabbè adesso lo fai cazzo se lo fai cioè allora il mostro si porta dall'attreazione opposta tu riesce a colpire il suo fianco mentre striscia cammino con le sue braccia in maniera frenetica gli fai un bello squarcio superficiale su un lato e gli grida voi sciocchi pensate di distruggere la distruzione in persona io mi faccio beffe di voi su una delle sue mani si viene a creare una una sfera di fuoco che poi scaglia contro di te da uno sono 27 danni praticamente mentre si avvicina 27 ti globa completamente fammi riflessi per dimezzare se no sono 27 sono 27 mi sa sono 27 tutti interi sono 27 la palla di fuoco ti avvolge un istante ti senti bruciare l'interno posso identificare l'incantesimo è palla di fuoco ok e perché non ha massacrato tutti allora perché aspetta quant'è il raggio ah cazzo scusami ho avuto un lapsus regolistico e allora fatevi tutti i riflessi ma c'è una no non posso farlo purtroppo sarebbe banale no meno male ok allora praticamente cosa succede la palla di fuoco va a scagliarsi contro il town il quale viene inclobato completamente e esplode poi un secondo dopo in una nuova che vi coinvolge tutti quanti sono chiaramente 27 anni per akira e per americo e haidam dimensati ah ma 14 io ho 5 di risultato 13 di fuoco quindi un po' di risultato ti mangiati per eccesso no ma sì vabbè ok ok vabbè hai sempre fatto per eccesso vabbè eccesso ma chi va ok allora come swift provo a fare un find weakness ma scusa mi stavi dicendo qualcosa sul fuoco così effettivamente ho un po' di resistenza però vabbè eh come si dice diciamo che all'inizio ci vai abbastanza convinto poi però ti rendi conto che l'esplosione è fin troppo potente affinché la tua pelle possa resistere e inizi a bruciarti ti rendi conto che c'è qualcosa che deve essere lì sotto ok find weakness entra ok quindi è più due ultimo per colpire attacco incarica 27 quello ok presa aspetta dovrebbe essere anche i danni aspetta un attimo ok no soltanto più due tac roll va bene e ok e dicevo pugno stordente cd dovrebbe essere tipo 17 una cosa del genere 17 17 ok passata ok vai allora tanto io mi devo per forza curare quindi questo è un movimento normale in swift action cioè mi devo portare a portata lo so che faccio solo il cosino il passetto però non è quello tattico la swift la uso per per curarti per curarmi sì non ci arrivi però da qua per colpillo perché lui è sì vabbè tanto devo fare il movimento normale dopo mi sposto nel mondo allora ok no perché sennò c'è un sacco di malustro tutte le varie cose più 20 quindi 66 67 quindi passa il torno no 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 faccio il movimento normale ah ok da qui però dopo gli arrivo no da qui sì no diventare c'ho c'ho dieci fit sono di taglia grande no sì ma lui è anche sopra capito devi stargli qua vabbè posso arrivare anche qua sì io stavo qua con i piedi sì sì puoi farlo puoi farlo ok io fa un attacco dico vuoi combattere il fuoco con il fuoco guarda la potenza delle fiamme di sui shen anzi senti la potenza delle fiamme di sui shen rampa allora ah sì hai anche il più 2 di americo per colpire è già segnato ah allora mancato vabbè di poco gliel'appoggio le fiamme cerchi di colpirlo però lui si si ritrae improvvisamente lui si schiaccia sul tetto e dissimila contro tu dannato amatassu pelirai sotto le fiamme della distruzione poiché sappi che la vita e la rinascita non sono niente di fronte al ciclo della morte inevitabile voi stessi siete delle creature effimere naida ok faccio un passo indietro e preparo un'azione nel caso casti qualcosa lo colpisco con la bacchetta di raggio lovente ok allora americo ah no aspetta 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 caro 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 tau no praticamente cosa succede un attimo un attimo prima che tu che il mostro si 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 ritragga verso l'alto e tu vedi il tuo colpo che sta per che sta per diciamo sfiorarlo quando senti intonare una melodia rapidissima da parte di un eco e per qualche motivo inclina la spada più avanti per far breccia con la punta del corpo del mostro che si ritrae timely inspiration attenzione immediata colpisce ah ok 27 danni 28 28 si forte a me il mostro seguiva contro di voi prima di sparire nel nulla che è castato è sicuro che è sparito nel nulla si senza che facci di attacco si si vai e sta ispirando americo no si sta ispirando allora comunque lui sparisce 17 touch si dai grande l'hai preso però lui scompare in ogni caso non devi fare la prova di concentrazione uffa no perché non è un cast ok prossima volta comunque metterlo sul livello del master ti conviene che ti è tolto dall'iniziativa l'ha messo sul livello del master c'è sempre un'iniziativa fighissimo non lo sapevo da player non l'ho mai vista questa cosa pensavo l'avessi proprio rimosso il il mostro appare nel punto in cui si trovava prima quasi come diciamo teletrasportato anche se in realtà chiaramente è stato il suo movimento repentino a portarlo fino a lì noi lo osservate prima di di poter lavare un muscolo lo sentite iniziare a parlare con voce suave tu samurai degli amatatsu samurai imperituro e valoroso sai che la via interposta del destino non è altro che la medesima via che seguo io stesso tu sai che non devi recarmi alcun male ti ha la mia volontà sei solo un paladino ti sei salvato a pelo senti la sua voce enerbicarsi nella tua mente e poi e poi senti la forza di shish la mente come un rago che va a mordere questo serpente che va a cacciarlo dalla tua mente la forza ruggente del drago dentro di te che scaccia i demoni lui ti osserva stragliato è impossibile nessuno era mai mai era mai ah ma c'è via vi distruggerò costi quel che costi vai Akira faccio find weakness nino ok stavolta uso knockout knockout bene cosa fanno knockout deve fare tempra guarda non c'è bisogno perché in realtà è morto ok descriverla descriverla nel momento in cui lui riappare e riappare per cercare di di prendere la mente di Tau non accadrà quello che è accaduto a me contro chi mandazzo muori mi lancio in carica tipo propulso nel peggiore stile anime in aria esatto e gli plano con un pugno nel petto con tutta la potenza che ho avendo identificato il suo punto debole e tirando proprio in quel punto lì con un singolo colpo lo colpisci su sul grande ornamento a testa di serpente donato che porta sul petto senti l'oro scricchiolare sotto il tuo pugno rompersi di disgiungerci e lasciare spazio al tuo pugno che procede la sua cavalcata verso il petto lo sterno di questa aberrazione in un secondo il pugno penetra all'interno del petto distruggendo qualsiasi osso ogni costola lo sterno stesso viene distrutto viene piegato sotto la potenza del tuo pugno e viene inarcato all'interno del corpo vedi la schiena del mostro che si distorce dietro di sé come come se la potenza del tuo colpo avesse fatto risonare un'onda tutta all'interno del corpo del mostro e un secondo dopo si crea una specie di piccolo cadere sul petto stesso che esplode in un getto di sangue nella schiena dell'aberrazione spinge indietro di violenza il mostro contro il muro il quale va a spiaccicarsi contro di essi suprimi cadere insanguinato per terra una rapida occhiata rivela un buco grande quanto la mano di Akira sul petto che si estende fino alla schiena il mostro ha strabozzato tutti gli occhi che aveva in uno spasmo finale di morte a me si approccia verso di te ti mette mano sulla spalla forse è stato un po' esagerato no per favore ha cercato di dominare la mente di la mente di Tau beh sei sempre esagerato in realtà è questo il suo segreto ma ho anche dei difetti è questo il suo segreto vedo anche la sua perdizione ma non è la mia perdizione su via certo e poi tipo ti diciamo ti come si dice ti smuove un po' la spalla no come farebbe effettivamente una dica per scherzare e e poi osserva il cadavere o perquisisco in realtà il cadavere si un attimo Tau non hai mai visto niente del genere una creatura simile intendi? mhm no non credo è un mostro disgustoso persino al pari degli oli più che altro parlava tanto di lasciarci dietro le scie di distruzione e cose e poi dopo un secondo ci ha attaccati guardalo indico verso una c'hava più test giusto? sì ne aveva ne aveva ben no sì cinque dico le cinque teste dico ne aveva di lingue lunghe è proprio quello che avevamo bisogno infatti tipo ad ogni frase che diceva cambiava testa quando pronunciava brevemente le parole scegli una testa e parla sempre a quella mi stai confondendo forse era anche e i miei occhi sono qua comunque sul sul suo cadavere non trovate effettivamente niente di interessante se il vostro pensiero va va a questo l'unica cosa che indossa era appunto questo abito estremamente elegante ornato come come un un rete come un sacerdone di qualche tipo e questi due questi due oggetti ma un bastone con delle campane in mano è chiaramente quel pugnale che portava un gringo che però sotto il vostro tatto scompare si disfa si disfacela come se si autodistruggesse ok niente bene adesso dovremmo trovare ragazzo cieco con i capelli verdi che così tanto gentilmente ci ha detto di venire qui per massacrare cose i capelli li ho visti solo io in realtà esatto si eh comunque cioè mentre state ragionando appunto sulle da farsi dati fra di voi percepite una voce profonda una voce che allo stesso tempo sembra contenere al suo interno due voci diverse che si contrastano e si immaginano perfettamente un po' come in shadow of the colossus voi di presente no però ok abbiamo voce polifonica va bene esatto o prodi guerrieri che avete sconfetto il male che albergava in questo tempo sacro ormai troppo dimenticato io vi ringrazio profondamente per ciò che avete fatto la voce proviene dalla statua siamo qui per portarti i nostri rispetti ci ha guidato qui un'entità che non sappiamo esattamente cosa sia e soprattutto non sappiamo neanche se questo posto sia davvero reale questa domanda non si confà alle esigenze di questo luogo in vero voi avete un compito da svolgere affinché la pace possa essere ripristinata affinché il vostro addestramento possa procedere così come predestinato il nostro addestramento l'illuminazione del corpo e dell'anima in una sola fusione eppur però mi chiedo forse qualcosa del destino è andato storto poiché incongruenze sono state create quest'albero dietro dietro di me anzi no dice dietro di noi non appartiene all'epoca che voi dovreste vivere questa incongruenza appare assai peculiare ai nostri occhi ce n'era uno simile anche mi pare di ricordare tale albero era previsto davvero quest'ultimo invece possiede una natura misteriosa è forse per questo che io e Tao non lo troviamo così sgradevole perché sia io che lui abbiamo dei precetti a cui dover aderire per riuscire a essere quelli che siamo davvero una natura misteriosa agli occhi di chi mi chiedo agli occhi del destino mio caro talvolta perfino gli oracoli non riescono a discernere la natura delle vie del tempo e questo fatto per quanto increscioso eppure però dilungarsi in chiacchiere con me lo scopo della vostra presenza qui io in vero posso svelarvi che la profezia di coloro che scorda le stelle vige in questo luogo ed è solo quella che risveglierà i codaldi dalla loro maledizione i codaldi sono i i maiali voi dovrete trarre le conclusioni in autonomia la mia parte qua la mia parte scaturita e scelta dalle profondità del tempo stesso è ormai giunta al termine mi auguro che voi possiate trovare la vostra strada la troveremo la troveremo come l'abbiamo sempre trovato con o senza oracoli con tutto il rispetto l'unica divinazione che ci serve è quella di mio fratello solo lui può guidare gli amatazzo sulla strada americo ti guarda e tipo gli scappano risentina akira credo che ti stia parlando da solo eh? in che senso? nel senso che è tipo si avvicina alla statua e gli da c'è tipo fa knock knock beh vedi non risponde più vabbè rispondeva fino a poco fa comunque mi sentivo di dire questa cosa anche se l'ho detta solo a voi lei è tipo si è avvicinata e ti ti pizzica la guancia con una mano sorridenti ossia akira stavamo scherzando subia come sei permaloso oggi non sono permaloso sei tu che sei strana lei si gira e non cioè non puoi fare a meno di notare la sua postura perfetta il modo in cui cammina in cui si dirige nel modo in cui si dirige ingraziatamente verso l'uscita non sono strana akira ho finalmente capito che la notte non potrà rallentarci ah bene ottimo la notte può solo guidarci durante la notte si vedono le stelle le stelle ci guidano forza usciamo da questo posto forse prima dovremmo curarci non si sa mai cosa ci posso attendere là fuori a tal proposito se tipo mi dai quei tipo dieci minuti userei quell'abilità che ci hai dato nell'altra torre della cura meditativa e la farei meditando davanti all'albero non c'è bisogno perché l'albero ti fulga completamente ok perfetto venite come spinte diciamo da una una sensazione di una sensazione innata che vi spinge verso l'albero vi mettete lì a mettere quasi cioè non a meditare i vostri pensieri in realtà si fanno più più erranti confusi come un turbinio che non si ferma come una marea come una tempesta che sconvolge il mare di idee che avete in testa questa cosa vi lascia al tempo stesso un po' un po' scombustolati ma poi dopo tutto vi infondano la sensazione di tranquillità e di pace come se foste frastornati dall'occhio questa cosa dura un'ora quindi voi aspetta quanto era durata nell'altro penso un'ora anche nell'altro sinceramente quindi state lì un'ora mentre voi voi due diciamo meditate pensate su ciò che ha dovuto cercare stavo pensando che io ho usato le adesso se c'è un altro stronzo ne malvagio no dicevo che ho usato Leo Venn ma se il tizio tocca combattere dopo l'ho già usato capito vabbè si farà senza facciamo senza facevano gli antichi no non Leo Venn poi volevo di Smyteevol chiaramente Leo Venn ce n'ho ancora tre per voi per te Aidan il tempo è come indefinito cioè non riesce a discernere effettivamente quanto tempo passi per gli altri è un'ora di tempo dunque vi va proprio inquiate per ritornare l'allaggio con la conoscenza che avete ottenuto dalla Sacra Stata di Diabio dunque la ritornata al villaggio si sta facendo si sta facendo l'alba quindi la gente inizia ad uscire di casa ad ammettersi al lavoro per ciò che devono fare considerate che nei prestiti di villaggio dove non c'è la foresta vi sono dei campi coltivati quindi ci saranno probabilmente molti braccianti è rientrata in paese e ciò che vi aspetta è un'ontata di sguardi vigili attoniti alcuni forse quelli di cuore più debole urlano altri scappano per la paura e si rifugiano in casa la maggior parte infatti non rimane fermo a fissarvi ma cerca in qualche modo di ripararsi qualcosa dai il cosi guarda in giro sconfortata povera gente non capisco tra l'altro perché siamo così orribili per loro si facciamo la pausa ok un attimo però non solo cioè la pausa bene vabbè adesso siamo in un attimo in pausa non mi è chiaro se questi maialini sono di taglia media o di taglia piccola sono taglia media ok infatti non sono maialini cioè sono maiali è mai ingannata Mike quando ha detto bel maialino da lì in poi me li sono immaginati alti un metro no sono più o meno così aspetta e poi un'altra cosa l'albero refulla solo la vita o in generale tutti gli incantesimi come dopo un riposo completo si 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 tutta ok è da prendere anch'io un qualcosa da mangiare ci sei tu Andrea c'è qualcuno un'altra cosa Grazie. 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 Ci sono. Cioè, non volete capire quanto sono. Cioè, tipo, io non volevo andare giù perché non volevo fare casino. E tipo ho detto, vabbè, mi rassegna, non leggiamo niente. Poi guardo, verso il comodino, c'era un torrone. Hai detto, my face when. Torrone in camera. Avete capito? Mhm. Bene. Ti sta piacendo? Non sento, c'è un torrone di sotto che sta venendo scartato. Ti sta piacendo? Mhm. Ti sta piacendo? Mhm. Ma in teoria ci siamo tutti, eh. Però non ci sono loro. Andrea? Ci sono, ci sono. Mhm. Ci sono anche io, eh. Mh. Questo è che mi mangio, un attimo. Ma vabbè. Mh. Basta che ti muti quando mangi. Sì. Mi sono mutato. Ci siamo. Sì. Ok. Ehm. Tutti scappano allora. ада. Ciao. Aspetta. Ciao. Aspetta. Ciao. Stavo finendo. essentially. Come un maiale. Esatto. Dunque, siamo rimasti gli abitanti del villaggio che scappano, si nascondono o entrono in casa. Ho un'espressione alquanto spaventata nello sguardo. Qualcuno è rimasto fuori, quindi? Quali che sono rimasti fuori sono nascosti dietro delle casse, dietro pezzi di legno, ciocchi magari, che sono rimasti fuori. Cioè non ce n'è neanche uno che ci fronteggia, per così dire. Mazzalo, chi è? La statua ha parlato di... Guadardi. Potrebbero essere loro, d'altronde sono comunque tanti. E sono codardi. E sono codardi. E sono maledetti. Zio, il microfono veramente. Scusami, scusami. Ok, sì. A me, ecco, entrando in città, cioè nel paese, Diciamo, una... Prova quasi a esultare i maiali a uscire fuori, non aver paura. Ok, però c'è qualcuno che è rimasto fuori a fronteggiarci? Nessuno? No, a fronteggiarvi non c'è nessuno. Ok. A quello che vedo più vicino, tipo comincio ad avvicinarmi molto piano. Provo a tirare diplomazia per aumentare il nostro... Per cambiare l'attitudine verso noi. Lo aiuto. Anch'io. Anche America. Quindi, 18, 20, 22. A me che si guarda in giro, forzando... Non abbiate paura, uscite dai vostri nascondigli. Se siamo qua, ebbero un modino solo. Aiutarvi. Anch'io... Con castoluce, dico... Noi siamo... Che dici? Lo dirò, siamo i Yamatatsu? Oppure sembra sconveniente? No, mi frega un cazzo. Noi... Non ha nel senso che mi frega un cazzo se è sconveniente. Dico, noi siamo Yamatatsu e siamo qui per riportare la giustizia, anche per voi. Non dovete temere. Dovete... Farvi coraggio. Io estraggo la bambolina. Porto questo oggetto da un passato che vi appartiene, ma che avete dimenticato. Noi possiamo aiutarvi. A ricordare. A ritornare. Vai, Akira. Che alla fine sei tu. Io mi sto avvicinando... Cerco di beccarne uno, un adulto o qualcosa del genere. Mi sto avvicinando... Vi sono alcuni che sono dietro casse, parili. Quindi, diciamo, il primo che trovi... Diciamo che coglie il tuo occhio, appunto, uno di questi qua che si è nascosto dietro. A quanto pare sembra peggiorno degli altri, più un minuto. Capisci che non ti voglio fare del male, vero? Ma il Tamio ci ha proibito di parlare con le persone che non vengono dal villaggio. Voi non potete... ci uccideranno tutti. Beh, con noi ci può provare e sicuramente non ci riuscirà. La voce del maiale ti sembra quella di una femmina? Comunque, cioè... Giusto, cioè nel senso... Lo faccio a niente. Voi dovete andarvene subito prima che arrivino le guardie serpente del Tamio. Non c'è problema per le guardie. Le guardie hanno già ricevuto quello che gli aspettava al Tempio Perduto. Ma... Voi siete andati fino al Tempio. Ma in realtà l'abbiamo anche liberato. Lo sguardo della maialina. Sì, l'innumina. Ma... Ma come? Voi avete liberato il Tempio? Tutto da soli? Il... L'antico... L'antico serpente che viveva lì? Cosa... Ne avete fatto? Ve l'ho detto, mia signora. No. Abbiamo dissipato l'ombra che c'era lì dentro. Siamo Yamatatsu, portatori di luce. E siamo qui per aiutarvi a liberarvi dal gioco oppressivo del Daimio Gallo. Non dovete temere. Fatevi avanti. L'antico alza le braccia verso il cielo e il cielo intorno. Avete sentito? Siamo qua nel nome di una stirpe che ha sempre preferito, sempre messo davanti il proprio popolo, piuttosto che gli agi di una famiglia imperiale. E noi siamo qua quest'oggi per liberare, voi, dal gioco oscuro, di questo signore malefico. Dunque, popolo di questo villaggio. Alzatevi, ribellatevi, prendete le armi, prendete qualsiasi cosa voi possiate utilizzare. Prendete le falci, le astrelle, e marciate insieme a noi, venitosamente, contro il castello del vostro signore demone oppressore. Forse preferite che le vostre donne e le vostre bambine vengono rapite, vengono portate nuovamente al castello. E chissà, chissà cosa quel mostro fa a loro. O preferite insorgere e combattere valiosamente contro la minaccia incombente. Come voi, in generale, diciamo, annunciate, ciò che vedeva dal tempio più nel discorso finale di America, che incita ancora di più la gente, una folda di persone, sempre più vasta, iniziano ad affacciarsi dalle finestre alle porte, escono in strada e iniziano a grumpire come dei maiali, a portare le braccia in alto, con i pugni, chiusi. Alcuni salutano, fanno un saluto quasi militare, copiato poi dalle guardie serpentine. Alcune prendono le falci e le portano fuori. E improvvisamente, nell'alba mattutina, dalle lanterne attaccate alle porte, flebili, centinaia di falene luccicanti si riversano da esse verso il cielo, escono con un turno di Dio, che ricopre l'intero, l'intero, c'è lo strano di Dio. Queste falene poi si buttano quasi impicchiata sui corpi, alzimanti dei maiali di fronte a voi, avvolgendoli completamente, avvicchiandosi ad ogni parte del loro corpo. E in un attimo, quasi improvvisamente, sotto il vostro sguardo attoito, sotto la luce imponente che queste falene creano, i maiali hanno lasciato il posto a guerrieri, a samurai, vestiti e armati di tutto a punto. Il simbolo degli amatazzo sfregge le loro armature. Il drago imperiale rampante del Makae, raffigurata su di esse, il caratteristico verde che pregna il loro armature, brilla nell'aria. Come distinto, i samurai alzano le catare al cielo e urlano. Le alzo con loro. La alzo. C'è non più, però ne alzo una. Urlano e incagliano. Gloria all'imperatrice. Gloria all'eterna famiglia Amatazzo. Gloria all'eterno impero celeste del Makae che risorgerà dalle sieneri. Amaco sembra sopraffatta e sconvolta da tutto quello che sta succedendo. Si guarda in giro attorno. Anch'io in realtà mi guardo in giro ma non ci sto credendo. E' tipo... Che cos'è questa farsa? C'è la mia faccia è quella. Si. Amaco continua appunto a guardare il popolo attoito. le grida di furore di quasi battagliere anzi decisamente battagliere del popolo stampolare si riversano nei cieli. Cosa fate? Sto cercando di ritrovare il tizio cieco che ci ha mandati io nel frattempo tu l'avevi detto proprio cosa? Cosa? Perché prima ha detto tipo cos'è questa farsa no? Si si l'ho detto l'ho detto io prima rimango un attimo lì ad incitagli poi mi giro ti stai riferendo al fatto che dal nulla abbiano tirato fuori simboli e fregi del nostro impero. Qui ho qualcuno ci sta prendendo per il culo. Qui devo chiedere al master anche se non ricordo che il discorso era già stato fatto nella prima torre nella torre posso ribadire il concetto delle prove del DAO. Alla fine lo stesso la stessa la stessa chia piomba ti ha confermato che è stata vivendo una specie di prova quindi sì. Quindi io mi dire faccio non è una farsa qui viene messa alla prova la nostra capacità di condurre il popolo verso la luce ripulire e distruggere le ombre guardali prima erano dei vigliacchi dei codardi e si nascondevano alla presenza dei loro salvatori perché un oscuro lord li dominava un daimio vigliacco e vile gli proibiva anche solo di osservare gli stranieri DAO la rivoluzione non è questa la rivoluzione non è portata da magiche farfalle che prova è questa? abbiamo fatto questa questa è una prova per il tuo animo il mio animo è solamente sconcertato che possa essere così semplificata una cosa così difficile come ribellarsi e trovare il coraggio è un affronto non è quello non è il loro ritrovare il coraggio è il nostro infondere coraggio è la nostra capacità di guidare questa battaglia con il minor numero di perdite possibili essendo noi stessi in prima linea senza abbandonarli come è già successo a questo popolo questa è la nostra prova Akira e se invece Akira avesse ragione se invece la nostra prova fosse non credere alla facile conversione delle persone l'illusione di un comando così semplice che tutto si possa risolvere con delle magiche farfalle che mettono addosso delle magiche armature delle magiche spade a gente comune non è così che si comanda non è quello che stiamo facendo durante il nostro viaggio si non abbiamo aiutato si Tao non siamo d'accordo che l'abbiamo fatto ma qui dentro con questi queste persone con queste farfalle che ci hanno portati giù dentro dentro il vortice pensi che sia così facile abbiamo preso la gente la gente di Kalsgaard e l'abbiamo guidata ma l'abbiamo guidata verso qualcosa che sapeva già fare lavorare duramente cercare di non fare troppo casino qui stiamo parlando di una di una situazione assurda persone maledette in una forma in una forma vile che improvvisamente trovano così tanto coraggio da diventare degli arditi samurai non è così non dobbiamo credere a questo a questa facilità a questa magia non ci sarà nessuna magia quando saremo arrivati nel minkai ci sarà la nostra magia i nostri pugni la nostra spada e tutto il popolo che riusciremo a convincere a stare dalla nostra parte piuttosto che cercare di salvare la propria vita voglio che sia chiaro questo per tutti noi lo è lo so che lo è già ma temo che questa prova sia soltanto un abbaglio nei nostri occhi che ci voglia far credere che noi Amatatsu così come facilmente veniamo abbattuti dalle tragedie così tanto altrettanto facilmente riusciamo a piegare popoli al nostro volere non sarà così sbaglio fratello lo chiedo ad Aidan io in realtà sto osservando Town in realtà di una sua risposta quando vengo chiamato in causa mi giro verso Akira no questa prova potrebbe effettivamente misurare la nostra capacità di discernere le illusioni ma non quelle magiche quelle delle persone l'entusiasmo è una brutta brutta bestia l'entusiasmo si con calma stanno a parlare non voglio parlare solo l'entusiasmo crea una falsa aspettativa è fervore di battaglia sono stati oppressi lo sai cosa succede a quelli che si possono prendere dal fervore della battaglia che erano ed è qui che entriamo noi Akira certo che è il nostro ruolo non è l'infervorare questo popolo abbiamo già conosciuto questa sensazione di fervore e di riportare all'ordine noi dobbiamo trovare il modo di incanalare quel fervore nella giusta direzione senza mandarli a morire chiaro è vero Aydab potrebbe essere un modo per discernere le illusioni dei popoli non posso negarlo la statua rappresenta saggezza oltretutto li abbiamo animati sono tornati speranzosi per un loro futuro diverso da questa oppressione ora sta a noi e solo noi non concedergli l'illusione portarli da realtà loro continuano a tinneggiare gli amatazzo quasi come presi in una trance e a me che a un certo punto si guarda ora basta basta discutere basta stai discutendo sul niente noi dobbiamo solo fare una cosa spingerci verso il castello di questo damo malvagio ed estirpare il suo regno forza guerriera amatazzo alla carica è tipo parte diciamo quasi spedita di fronte di fronte a voi io annuisco e la seguo con la stessa energia diciamo che è lo sei sparito sì penso sei sparito quando hai iniziato beh sei sparito e a me così lancia la carica e i soldati la seguono loro per tutto questo tempo appunto ammaneggiano gli amatazzo come come una sorta di trance allora io mi prendo un attimo di non carico a testa bassa rimango indietro e mi arrampico su una delle case ok a me e gli amatazzo si stanno allontanando dal villaggio no? sì stanno allontanando verso la collida voglio vedere in lontananza se riesco a discernere se si stanno buttando dentro una trappola o no io quando vedo che sta arrampicando per fare questo dico posso semplicemente volare fratello ah sì non volevo non volevo non volevo disturbare disturbare la tua magia o sprecare la tua magia allora dall'alto della casa note che la formazione degli amatazzo complice forse anche il fatto che la foga abbia preso sarà aperto oppure non è organizzata non è aspetta io non carico tipo barbaro a occhi chiusi ok però allora te raccoggi anche tu che la formazione è sì infatti infatti ecco se l'avessi saputo ti avrei detto che avrei diretto avrei dato ordini marziali il punto è che non vengono recepiti nel senso che è come se loro non sapessero come combattere cioè non sapessero come comportarsi in ambito militare loro stanno caricando a testa bassa effettivamente e a me con gli sta guidando perché anche a me come sembra sì sì perché a lei comunque sembra proprio sconclusionata oppure cioè rispecchia semplicemente la sua natura oppure anche lei sembra tipo in trans no 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 rispecchia la sua natura cioè la sua la foga la foga l'impulso ecco allora mentre carico tanto penso che sta lì al fianco di a me o poco dietro comunque le grido di guidare bene il popolo lei lei tipo si gira verso di te sempre correndo e questo come lo intendi Tao no le sto guidando verso una vittoria forza devi devi dare degli ordini precisi a me devono imparare a muoversi non possono caricare in questo modo mentre anche io comunque sto parlando con loro sei più brava di me ad animare le persone a guidarle tipo dico quei cinque là magari ce ne stanno cinque con determinate armi falli muovere in questa formazione le do indicazioni sostanzialmente come se lei le dovesse riportare al popolo visto che è lei l'imperatrice lei lei che guarda tipo si gira un attimo e inizia a spraitare con le mani ah ma tazzo in posizione forza chiudate le linee vedi che la la gente il popolo non la sembrano ascoltarla come se fossero presi dalla foga così così ampia così così diciamo soverchiante che che non che non ascoltano gli ordini e ben presto voi stessi venite sorpassati da loro cioè è come se li lasciassero indietro quasi li calpestano ma non lo fanno apposta cioè tipo vanno verso la battaglia e non si rendono conto di quello che stanno facendo e vengono lasciati indietro l'Americo ti guarda con un'espressione preoccupata cosa stanno facendo fermi Amatazzo informazione mantieni la calma Maiko la prova è appena iniziata le casto in ansa di ploma sì Amatazzo non buttate via la morte in maniera così stupida un po' di tattica serve della tattica anche lei lei stessa non non sembra credere molto le sue parole cioè se si sta agitando ricordate che sta dentro la mia aura con l'agitazione queste cose c'ha più che agitazione lei non è cioè non è la sua cioè lei non è un soldato prima di tutto lei è e poi la sua natura non è ormai la conosci da tanto tempo allora posso provare a prendere con diplomazia cioè dimmi te se è meglio diplomazia intimidire per dare ordini adesso non ti so in questo caso io faccio professione soldato tipo ah professione soldato tu sei troppo lontano sto correndo per 4 ah stai correndo io era volo a 18 metri quindi comunque ti dicevo Andrea io posso fare qualcosa c'è qualche check che fa tibie puoi farmi diplomazia ok casto non se diplomazia anche su da me mi dà più di 2 però non c'ho il buff segnato quindi lo aggiungiamo al tiro vabbè inizio a gridare ordini marziali con fermezza come faceva Venture nel frattempo l'armata si riversa contro le mura della fortezza arcieri sopra di esse dopo i cornicioni iniziano a sparare frecce con tutti loro molti iniziano a cadere quelli che rimangono in piedi continuano a battere contro i portoni e cercano di sfondarli senza effettivamente una tattica cioè si ammassano contro i portoni e cercano di sfondarli mentre vengono bersagli e vengono a cercare il decimo uno ad uno ed eppure non sono nemmeno così tanti però si stanno veramente lanciando delle fauci civile bestia voi li raggiungete presto Akira sei arrivato al contingente tu Aidan stai sorvolando suba allora faccio così avevo messo su eh dazzling display e snatch arrows con martial flexibility la prima cosa che faccio è tirare intimide l'area su tutti quanti ok per farli indietreggiare forzatamente nel frattempo Aidan sulla fortezza sul tetto della fortezza che è tipicamente cioè è una fortezza tipicamente che ha il tetto curvo diciamo per una persona normale sarebbe alquanto rigido eppure però noti in lontananza un individuo un individuo vestito con vesti leggere bianche la sua pelle la sua carnagione verdina i suoi capelli verdi che sembrano fili d'erba lunghi che sventrano nell'aria le braccia concerti sul petto gli occhi bianchi completamente bianchi che ti osservano e in qualche modo sorridono ma non staticamente com'è come la schiera di unirti com'è il suo sguardo lo conosci fin troppo bene è il tuo stesso sguardo che dice non hai considerato un fattore già allora un tuo akira inizia a spraitare in giro ti imponi cerchi di riportare l'ordine eppure però non serve non serve perché il contingente continua a cercare di sfondare le morte e alla fine e alla fine ci riesce eppure però almeno la metà di loro sono feriti sotto le frecce degli arcieri hanno optato per un assalto diretto senza una tattica precisa hanno sfondato le porte e adesso la fortezza si apre di fronte a voi i soldati sciamano dentro senza aspettare gli ordini da chi che sia e voi potete fare so potete solo seguirle neanche se provo a tirare soldi professione soldi prova non vaffanculo la 19 no cagare no io guardo dall'alto per la prima volta dopo tanto tempo veramente incapace di di formulare una un piano alternativo e assisto al massacro se entrano dentro gli arcieri continuano a bersagliarli anche quelli della fortezza inferna come se i vostri soldati si fossero lanciati in una trappola mortale congiunta un cerchio di arcieri le le circonda appunto e scagliano frecce su di loro a luna certa si rendono conto di essersi lanciati in un'impresa mortale e alcuni di loro chiedono la pietà alcuni di loro si buttano in terra supplicando la pietà del potente damio caldo alcuni di loro si ritrasformano in maiali quasi la maggior parte di quelli che si arrendono e vengono massacrati dalle frecce voi non potete fare altro che osservare la scena impotenti vicino alla breccia che è stata perpetua nella porta e se non posso fare niente lo vedo il tizio in bianco fammi percezione posso farlo anch'io se voi osservate la scena impotente e poi il vostro sguardo si posa sul tetto della fortezza di fronte a voi Aidan si staglia in piedi con i capelli al vento osserva la scena dall'alto non c'è non c'è senso Aidan perché il tizio gallo è Aidan eh già eh già no non è il tizio gallo non è il tizio gallo il tizio gallo è il tizio gallo sta cominciando a diventare una strana una strana consolitudine un profeta del malauguri io non rispondo continuando a osservare il me stesso comunque adesso non possiamo fare altro che o buttarci dentro nella nella io sarei tentato di buttare a me in mezzo perché non non credo che ce la farei guardarli in quel modo cioè soprattutto sapendo che posso dare supporto il blessing tutte ste cose alla fine sono fervoriti da noi si sono hanno caricato in fervoriti da noi e questa è la prova dovevamo guidarli però era ho capito però se buona fortuna guidare sto branco di maiali non era quella la prova comunque Aidan osservi il te stesso non pendi Aidan non immagio della prima prova eppure però percepisci in qualche modo una potenza immensa che fuoriesce da lui la sua cecità non è niente per un uomo che ha vissuto qualsiasi via percorribile al futuro lui conosce la strada solo perché l'ha vissuta in un'area una volta continua a stagliarsi sul tetto fieramente aspetta un attimo ma in questo caso cioè le guardie cosa stanno facendo stanno rastrellando la gente guardie arcieri dici serpente sensibilmente sia ok mica li lascio ammazzare no 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 infatti voi adesso intercede nella mischia e fate casino appunto cioè tutto questo si sta realizzando veramente in poco tempo tutto uno che si parlerà nella mente tutto chiaramente a parole ci vuol di più però è una questione veramente di poco quando vedete che iniziano a essere massacrati voi alla fine li lanciate comunque alcuni degli arcieri cioè i vostri soldati non sono stati completamente veramente senza tattica né altro sono stati decimati però hanno contrattaccato con il loro archi con le loro frecce hanno colpito gli arcieri alcuni sono sciamati su una cura con le spade a ucciderli il campo di battaglia frene ancora non è ancora morto molti dei vostri sono morti molti alcuni si sono ritrasformati in maiali piangolanti altri però sono ancora lì da combattere il loro che amazzo buttate nella mischia tirate inizio a dire ci siamo curati vero? sì comunque in realtà io scendo al livello del suolo sempre tuttavia mantenendo attivo l'incantesimo avvicinandomi ai miei fratelli e dico siete sicuro di voler rimanere qui? la nostra battaglia è là sopra se quello fosse soltanto un osservatore questa volta non è malvagio no non è malvagio no no infatti la mia era un'affermazione non è malvagio non come questa volta secondo me dobbiamo mettere a posto la storia e già abbiamo fallito una volta lasciando di caricare questo mondo dobbiamo mostrare che non sono soli c'è qualcosa di sbagliato in me vi cettate nella mischia voi sostanzialmente identificate quelli che sono no vabbè questa è riduta quelli che sono effettivamente i comandanti della truppa del del damiogal scoraggete tra di loro nella foca nel caos della battaglia della polvere che che vola svolazza nell'aria sangue che schizza da ogni parte delle figure più imponenti un maiale enorme con una mammaia sanguinante in mano che macella la sua stessa gente assieme a lui assieme a lui una una specie di gallina cocatrice forse ha un aspetto quasi un misto tra le due cose e sembra avere una postura che tende quasi all'umanoide e infine un grosso serpente dal torso umanoide questi sono i tre individui che sembrano guidare l'armata del regalo l'armata serpentina del regalo hai anche le immagini della gallina si qualcuno ha appena usato l'illustrazione della quinta edizione l'illustrazione della quinta edizione sono molto belle adesso ancora the magic alcune sono meglio the pathfinder si è vero alcune si ecco che brutta a me la cocatrice piace un bat anche stronzo come mosso no ma si non c'è cocatrice no si si questa sono tutti che tre di la grande voi siete qua su adesso li metta fatemi avete tirato iniziativa dall'altra parte io se posso la ritiro volentieri no aspetta vabbè io ci ho provato allora questo qua è il maiale cioè vabbè è un samurai qui sembra un samurai però è un maiale con la mannaia stai dicendo che i samurai sono dei porci no sono porci questi samurai spqs in realtà se sono senza padrone sono porci questi ronin quindi spqr ecco si però questo ce l'ha il padrone ma non è il padrone giusto quindi è come se non ce l'avesse è un meme è vero si dai peccato tutto petto ok vai Akira andiamo chi è che respira affannosamente su no no Akira in realtà prima ci sono io velocità chiaramente prima però provo no non ce l'ho più velocità yeah ok vai velocità perfetta faccio un passettino difensivo o offensivo rica offensivo stai scherzando offensivo si si fine wick eh vedi me l'avete ginsata niente allora praticamente ti approcci vai sotto questo torre già vente maiale che puzza di di rancido con la mamminaia sporca di sangue puntata verso te e cerchi di trovare un modo per difenderti dai suoi attecchi però riesci a capire quale potrebbe essere il movimento di questa creatura dal canto suo il mostro serpente striscia aspetta è soltanto l'inizio è tutto full round scusami scusami hai ragione era solo per cercare un punto cieco ok mi considero tirato il martial focus e lo shield focus con 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 martial flexibility voglio dire ci sono stati mille turni che siamo stati a guardarci in faccia quindi sì 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 ok bam allora il primo preso il terzo preso il quarto ok sì il quarto il quarto considera che non ci sono gli sneak ok quindi sono 24 più 28 52 danni perfetto il maiale di fronte a te ti ti ringhia in faccia cosa pensi di fare io ti distruggerò fermi giazzolo farò pezzi la tua carne me la mangerò provaci schifoso dal canto suo il mostro serpente si si lancia da essere te sibilando tra uno per che tu possa muovere il muscolo lui lui è arrivato è arrivato su di te sono 24 danni sibila la sua scimitarra sibila due volte nell'aria e colpisce la tua armatura facendo due squarci su di essa prendola come un salare insaccata tu stupido umano pagherai l'affronto fatto al dio della distruzione si si adesso sto fanfurrando vediamo chi era lo stupido ameiko prende il il snobisem in mano amatazzo distruggiamo questi esseri empi per la gloria dell'impero per la gloria del pollo che insorge contro i padroni giusti forza ora o mai più il maiale scoppia il re tra le sue di te con un'agilità che ti aspetta l'agilità tipo si appropinqua a spostarsi sulla tua sul tuo nato per poi colpirti furiosamente sono 40 danni ma preso con 24 dca si un gol a lui 44 danni sono buono 40 danni o 44 40 40 40 vabbè sono comunque morto cioè non è che mi ha dimezzato vabbè 5 tanti li riprendi subito ah no al prossimo turno che vuoi creo devo ammazzare un serpente e magliare la gallina dopo te l'audienza la la gallina gigante la quella ma prima tocca a me ho no tocca a lei ho fatto 8 ha fatto 6 lei no ah no ah scusa mi sto leggendo male si stai non ci siamo in turn order quindi un po' difficile vederci comunque uso subito un coso c'è un metò col petto metò a quinta pezzo in modo sensuale chiedere sennò sennò yasuo please guardo la bestia schifosa eeeh gli butto addosso un kata di katana senza troppi complimenti più o meno senza troppi complimenti no mi fai una prova di religione preso col secondo è preso col terzo se c'è se c'è se non c'è l'ispirare coraggio no c'è già c'è già no allora preso solo col secondo però comunque sono comunque 29 danni si si sono comunque tanti uno tirati ma tanti tanti uno tirati accontenta ti mi hai fatto critico di me si 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 oggi ho superato i 40 danni 103 danni su ok tra l'altro in entrambi i danni rossi ha fatto 2-1 si si che c'è la religione lo faccia yes my lord no niente no è che tauno era distratto dal cane ma meglio il cazzo osservate osservate la quella quella buona di cocatrice che sta decimando i vostri soldati e poi ad un certo punto si si gira verso di voi e e grida in maniera stridula con un verzo che mi fa raccapponare la pelle da poi si getta solite acchie fortunatamente però riesce a parare il suo becco incidiale una velocità devastante un colpo che se ti avesse preso ti avrebbe staccato il metto all'aggiugolare e forse anche tutta la testa a giudicare delle sue dimensioni ride akira puoi farmi un passettino indietro che li faccio esplodere su di te un po' qua esatto lì va bene rientrano tutti i treni una palla di fuoco è al mio turno devi aspettare eh infatti me lo dici in azione immediata spostati ma tocca a me ah ok scusate va bene allora ti lo dico akira un passo indietro però adesso tocca a me va bene io ritardo l'azione dopo di te esatto è quello che meccanicamente facciamo anzi faccio così guarda ti conviene fan full e poi la swift è l'espostamento che sono ste bestie intorno sono i vostri soldati no ma come sono fatti sono samurai allora vabbè ci riprovo find weakness aggressivo fuck it bam allora beh find weakness entra l'attacco entra il secondo attacco entra il terzo attacco aspetta è sul sul maiane si il terzo attacco non entra e il quarto entra ma non confende quindi sono sono 24 più 30 più 21 ok descrivimi la scena perché muore ancora quando mi colpisce con l'ascia contro lo scontro il bracciale scudo in realtà sento il dolore del contraccolpo e mi piego su un ginocchio ancora una volta mi scatta quella cosa di trovare le debolezze nel suo attacco quindi giro l'avambraccio torcendo l'ascia colpisco l'ascia in un punto precisissimo per farla per farla non rompere ma comunque per togliergliela dalla mano si dalla mannaia insomma a quel punto quando l'ascia va via dalla sua mano lo aggrappo dalla dal polso e comincio a spezzarlo un colpo alla volta e quindi faccio la stessa cosa che ho fatto con la guardia spezzandogli il braccio in più punti per dargli poi l'ultimo colpo sotto il mento in un uppercut con un salto perché devo arrivare fino su il maiale il quale non si aspettava sicuramente una vostra del genere si trova completamente attonito quando la mannaia gli scappa di mano ti osserva proprio a lanciare un grumino a colpirti col pugno però prima che lui possa anche se non muovere un muscolo inizia a colpirlo diversi punti punti di pressione sul braccio e gli spezzi ogni singolo punto colpito lui grita di dolore di terrore prima di cercare di alzallnarti con un piccolo evento che si ritrova in un atto di furore terrorizzato e in quell'istante tu sai la sua faccia è portata e prende il dislochimento spostandoglielo quasi tipo di lato esce fuori dall'asse della faccia e si scompone in diversi punti la mascella prima che il sangue sfregi tutto il volto il corpo del maiale che cade esamine proprio sotto i tuoi piedi praticamente dopo il salto che hai fatto tu atterri i piedi sulla pancia del maiale sul cadavere noti con disgusto che portava una una come si dice una una pancera o un o tre no una cosa un crempiure un crempiure da macellaio effettivamente facendo due più due doveva essere un il macellaio che effettivamente macellava la gente del posto qualora come vi ha raccontato il maialino fosse stata cattiva è una cosa che ti disgusti cioè è qualcosa di veramente maca però debbio una volta no no aspetta mi sono tirato indietro sono quasi con una una capovolta all'indietro molto veloce mi tolgo mi tolgo dalla linea di fuoco di Aidan vai fratello ora no e ora difatti palla di cazzi un nuovo sole illumina la fortezza light ma bella merda bella bella merda meglio che si perché probabilmente visto che sono appena apparsi rinforzi avrei ammazzato a tutti quanti ma te dove lo fai tu? il problema è che ha un raggio che è più o meno questo quindi volevo farlo qua quando non c'era nessuno esatto non c'è sono appalti come funghi vabbè diciamo che questo punto qua ma è una bella domanda in realtà cioè lo fai lo stesso? lo fai lo stesso? no cioè ora che so che ci sono 40.000 persone no scusa non la può fai esplodere in cielo in modo tale che c'ha il raggio d'azione che investe solo eh sì esatto sono dettaglia grande vai vai allora facciamo così tipo come no la lancia verso il cielo la fai cadere come un'atomica ed esplode in mezz'aria già apri Hiroshima va bene è esattamente quello che faccio mi sposto tipo un pochino in qui perché se no faccio la fine degli ok vabbè quant'è la cd? la cd di fireball nel mio caso è eh 17 ok quindi la cocatrice la passa cosa è il serpente il serpente pure otto danni è una merda Akira tocca ancora a me? sì no tocca ad Aidan a cosa? no al serpente tocca ah sì è vero perché hai allora che forma rotonda perfetta che c'ha sto coso guarda col cerchio come f***a bene Tauno sono 26 d'anne così è la seconda volta che se ne esce con Tauno 20x da anni vabbè ma il 40 il serpente continua a tartassarti fulminamente con i suoi colpi di sciagola è un avversario che dopo tutto per quanto è in più è sicuramente degno di incrociare la sua spada con te ti tiene testa e non solo ti ti spinge proprio ad andare in piada ma tu non riesci non riesci a mantenere il suo ritmo la sua velocità è qualcosa di effettivamente serpentino l'unico modo in cui riesci a contenere la sua fugia assassina è con l'incantesimo che il tuo fratello ti ha lanciato Maiko Maiko in tutto questo lancia ti lancia forza del toro Tau Oh Vabbè segno direttamente qui in Anselt 4 Vai Tau Allora io come prima se ci ho rimasto sì ci dovrebbe ancora lui sì mi ribatto forte il petto gridando per Yamatatsu magari senza strozzarmi col catarro c'ha avuto una frenza mentre lo dice mi è esploso il sole in gola Pim Madonna per uno non so full continui a dire che non ti piace meccanicamente puri come la merda madonna a me mi fa incazzare questa cosa perché poteva giocare dal momento zero ma non voleva ascoltare le testate è figo però non è il tipo dei player tipo dei testati mamma questo serpente stai zitto ma sì ma sì catà ma 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 cosa hai detto a me il tipo di personaggio che è che cosa mi hai appena fatto 150 danni la stessa è stata la cosa di ma non so se fai il caso che te fai sempre quello cioè quando fai la catà 15 15 20 cioè tu che sono verde sono verde ma ma la ma la ma la 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 ma la la ma la ma la no 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 non fa il doppio cioè hai fatto un botto di ma io critto se non crittavo non la tua sta diventando una critto nel senso tra un po tra un po faremo a batte con akira se sfidere potrò permettemelo descrivimelo muore la sfide la sfide è stato è quello che ho pensato esattamente quello che ho pensato cioè lui ma tipo ha inferto una spadata immensa ma ma tipo ha aperto il petto io ci batto la mano e subito dopo aver battuto la mano che lo faccio con quella con cui impugno a parte che non c'è bisogno invece batto proprio con l'elsa della spada faccio prima e poi gli infilo la lama sotto cioè lo faccio se me lo permetti lo farei le flavor come un colpo unico stavolta gliela infilo proprio sotto il braccio che impugna la lama e lo attiro giù fino alla fine fino alla punta della coda lo tiro via tutto lo divido in due bruciando ho capito lui praticamente continua a scambiare colpi su colpi con il serpente fino a quando non vedi un'apertura percepisci in quel punto forse noti come un riflesso della luce solare dell'alba che si staglia su un punto del corpo del mostro nella penombra generale questo sprazzo di luce ti guida e tu percepisci che Shizuru è con te colpisci esattamente colpisci esattamente in quel punto e taglie dall'alto verso il basso lasciando dietro di te una colata dorata infuocata che si che si che si blocca istantaneamente sul corpo del mostro cauterizzando le ferite eppure però lo è diviso a metà e il suo corpo le sue ferite barillano intensamente della luce solare di Shizuru prima di venire esterpato completamente vedi che il corpo a terra inizia a bruciare di un fuoco completamente dorato sacro bel colpo fratello annuisco avete visto il finale di Onimusha il demone che lo attacca lui semplicemente pianta la spada per terra e il demone si taglia contro la spada mentre lui lo guarda scemo vabbè perché lui è tipo in forma finale demone cazzo e mazzo Andrea metti un altro Aidan qui diciamo tipo la scacchiera dalla parte del te no beh è ancora chiaro che lui non ha una parte del te no lo so però ci stava come immagine basta ok allora Tauro guarda adesso Mazda me per ripicca 97 danni invece lo riesce a colpirti sta cosa che c'è poco scarsa aidan ah si scusatevi un attimo distratto dai 132 danni adesso sarà un meme per tutto il resto dell'anno guarda che hai ritardato dopo di me in realtà hai ragione tocca Akira guarda te vuole ammazzarlo lui eh no è che se mai spara voglio dire no 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 ammazzalo me ok allora mancato mancato uso stamina stamina 8 punti di stamina quindi allora il primo quanti punti di stamina servono? 22 eh dai faccio colpire il primo e il secondo tipo ok quindi sono no te conviene il primo e il terzo eh ma non posso deciderlo cioè teoricamente aspetta hai già considerato il l'ispirare coraggio sì sì ok quindi sono 22 più 18 più 40 più 12 quindi sono 50 aspetta no non è considerato il più 2 di find weakness sai quello non è considerato ah no? no quindi anche il terzo riesce a colpire con gli stamina se le usi tutte sì le uso tutti sì sì a me ecco sfoderà sfoderà lo stocco e si lancia la carica ha criptato eh ammazzo la cocatrice sì toccava di ah vabbè agisce prima di tolost sì sì no no agisce dopo maiko grittato però fa rifare gli attacchi quindi figa sì tipo si si lancia davanti come una grazia spropositata voi combattete di violenza pura ma lei lei invece cerca sempre il punto più debole cerca di individuare il punto in cui colpire per infleggere il più danno possibile e tipo inizia a a piantare a piantare la la sua il suo stocco nell'ala della cocatrice la quale urla verso di lei con la sua stessa voce stridola inizia a ghiaccia grossa ai danno ok tiro un raggio rovente sul mitbo eh no no è 14 non è 12 anche i danni delle bacchette val più due di ispirare coraggio è un attacco sì è un tiro per colpire presso no ma non ha il danno perché stai tirando un incantesimo allora è 14 16 ma perché dava anche più due al danno eh sì ah ma allora c'erano 6 danni in più no non cambiava la situazione la cocatrice è tutta risposta però no ci sei tutta una tutta sì ce la faccio a spostarmi qua senza bravo sì sì c'è qualcuno che adesso flanca eh perché tanto è morto cioè potevi spostarti davanti prima cazzo eh non 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 ci ho avuto il tempo preso 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 morta sì morta e scrivi no questa gli taglio semplicemente la testa perché ha provato ad attaccare la gente praticamente ti sposti formidamente verso il fianco mentre allunga la testa verso nego tu di netto alzi la spada verso il cielo e un raggio di luce si fionga sulla tua lama infondendola di potere di dio e poi giù verso il collo della cocatrice tagliandola di netto con un colpo su 50 centimetri di carne tagliati in un colpo netto o tra l'altro con la cocatrice ah no è umanoide anche se no era una buona cena è comunque un pollo voglio dire vabbè però umanoide dai che schifo anche i maiali erano vabbè quasi tutti i serpenti eppure però eppure però a quale costo la vita di centinaia di persone buttata in qualche secondo di battaglia perché perché tutto questo per l'ignoranza ignoranza di tali persone dall'altra dal bancone dal bancone che dà sulla fortezza fuoriesce una figura umanoide alata dalle caratteristiche dalle caratteristiche prettamente effettivamente di un gallo vedete che ha la cresta la cresta sulla testa rossa e i pezzettini di carne sotto sotto il si chiamano barbigli zio scusami i pezzettini di carne i barbigli sotto il veco vi osserva con aria atroce con aria vindicativa al tempo stesso con uno sguardo pieno di scherno nei vostri confronti aspetta aspetta fammi finire i malletti ho finished è adornato di gioielli preziosi e accanto a lui ci sono diverse ragazze su cin voi cosa fate dunque non ho capito dove è lui è sul è sul balcone che tasca cioè qui tipo si è tipo a sei neapri insomma e io mi sono avvicinato ad akira gli ho detto dammi il cinque cioè te l'ho detto veramente dammi il cinque si ma prima che apparisse il tizio dopo e gli do il cinque lo guardo e gli do il cinque in posizione delle mani pam pirla porca puttana questo è lui è il cantagallo in realtà buonissimo bello questo è un TheWob no gli Anacocra esistono da si però so come quelli TheWob sono buonissimi concentriamoci deve essere ammazzato peccato è veramente figo tu che te ne stai da sopra a guardare il sangue che scorre nel tuo cortile vieni giù ti sfido o starai da sopra a farti difendere dalle tue donne lui scoppia a ridere un risata nellifo nellifo al tempo stesso però molto molto frastornante voi intrusi cosa pensate di risolvere in questa maniera e poi tipo alza le braccia verso il cielo guardate ciò che avete fatto avete spedito la vostra armata di codardi ignoranti verso la morte perché sapete l'ignoranza è il peggior male del mondo e solo chi sa sfruttarla solo chi ha il desiderio e l'avidità di poterla fare sua può governare su gente del genere eppure eppure però noi stessi individui dell'anearisma abbiamo bisogno di gente violetta gente instigata dall'odio e dalla violenza dalla distruzione e indicare i vari serpente io stesso ho mandato mio figlio in gioco e voi l'avete distrutto senza spargere nemmeno una goccia di sudora io mi chiedo forse voi siete venuti qua a destituire il mio regno oppure a commettere atrocità nel nome della distruzione in fondo ciò che voi desiderate di più non è forse la distruzione oppure ditemi è la carne di queste fanciulle che vi attrae io lo so di che pasta siete fatte vi siete messi d'accordo tutti quanti in questo posto di merda per dire queste stupidaggini eh? guarda verso di te Akira tu proprio tu come osi parlarmi così creatura del desiderio creatura che nasce dalla corruzione dall'edonismo tu non sei altro che l'epitoma di una stirpe no la cui lo interrompo lo interrompo tu un attimo scusa scudendi prima che tu cominci una cosa meccanica se lui prova tipo ad alzarsi dal balcone attivo tipo tentacoli neri in modo che non possa volare prega dicevo tu non osare tu sei un maledetto vile e schifoso noi non bramiamo distruzione non bramiamo il caos inutile non bramiamo il potere o la cupidigia noi siamo i portatori della luce degli amatatsu e noi siamo qui per cancellare la tua ombra poi comunque voglio dire sei un pollo veramente parli parli a me lui ti guarda quasi sconcertato le tue argomentazioni demone sono alquanto fallaci alquanto oserei dire ridicole una sfortuna che questo non sia un duello di dialettica allora anche perché se vuoi parlare con il demone parlerai con il demone e tiro coso tiro alter self ok lui lui vi osserva e vi squadra dall'alto della sua persona voi non siete altro che parte di un gioco che ancora non comprendete ditemi forse quale sarebbe il vostro desiderio più ardito ne avete uno forse quella ragazza lì dietro è la tua prediletta demone forse dovrei cominciare da lei a strappare ogni singola vertebra del suo corpo o forse Aidan cosa dovrei fare della tua ambizione tu che tanto ti leggi con il cielo e con le stelle eppure sei così cieco di fronte alla realtà in realtà quando lui minaccia Meiko che dice devo cominciare da lei parto un dragon jump e gli salto addosso mi spiace quanto hai di CA? 24 lui tipo mentre tu salte alza il braccio fulminamente e ti lancia la sua lancia effettivamente sono 19 anni tipo ti prende in volo mentre stai stai saltando verso di lui ma lo abbatte pure o no? devi fare fammi una prova di acrobazia o forse sì acrobazia perché stai saltando non è in volo quindi acrobazia cioè aveva preparato l'azione per il salto aveva preparato l'azione per un qualsiasi diciamo come si dice affronto cioè tipo violento ecco cioè tipo tu scatti verso lui e poi fatta targettato su di me ok no targettato in generale vabbè si può fare ok riesce praticamente la lancia ti trapassa la spalla ma tu con la tua forza d'animo la tua imperiosità riesci a mantenerti saldo in volo verso di lui il tuo potere la tua striscia demoniaca il calore che fuoriesce dal tuo corpo rimane diventa ancora più forte vedete tipo lo sprazzo d'energia negativa che lo sovrasta e lo spinge verso verso il 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 preso ma knockout lo puoi applicare una volta al giorno una volta al giorno ma l'ho ricaricato prima a qualsiasi azione d'attacco si è come è come pugno stradente ok quindi lui deve fare deve fare cd aspetta aspetta devo guardare quanta forza ho in questo momento in questo momento ho 22 di forza molto bene e 22 quindi sono 6 più metà di livello 19 dcd su tempo si passata sei qua sei sul balcone insieme a lui un tipo di stati sta fronteggiando la sua lancia come come atterri su di lui tipo lo beh descrivi come lo colpisce e deve fare riflessi per non essere trippato poi puoi metterci sul turn order 16 superata sì ma non ci sei già sul turn order io vedo soltanto la viverna in realtà no più che un salto verticale cioè perché tu me l'hai descritto che salto in alto e scendo di un basso no sì puoi fare anche uno sprint questo è tipo pugno pugno meteora proprio dritto sì 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 è come immaginavo partendo così faccio proprio e arrivando tu lei non la toccherai ti ucciderò prima tra l'altro c'ha la voce da demone ok 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 segnatevi l'iniziativa lui ti osserva e scoppia a ridere se questi sono gli impulsi distruttivi di cui parlavo è della corruzione il serpente scorre e anche quella del gallo il desiderio tu sei come me tu e tipo si guarda intorno le fanciuglie che si sono rintanati dietro tu vuoi queste donne io leggo il tuo sguardo la vorresti possedere una e non negare ciò che dico non negare la verità lui ha come sospettazione risposta ok cosa pensi di leggere nel mio cuore che cosa pensi di trovare nel mio cuore tu tu che hai piegato la gente con l'ignoranza tu che hai approfittato di queste donne con il tuo potere tu non hai diritto di parlarmi tu non hai niente su di me non sai niente di noi noi siamo gli amatazzo portatori di luce e la nostra luce ti eclisserà scoppia a ridere cosa stai dicendo Aiden perché ci sono due Aiden è perché l'altro ho tirato iniziativa anche l'altro comunque sono ecco vai bene dove sono le le tipe che c'ha va lui dietro dietro si vabbè crea un tentacolo inerico un centro qui in modo che prenda soltanto praticamente fin qua quindi prende eventualmente le tipe riflessi cd cd quarto 18 entra no no scusate il saving throne non deve fare deve fare lotta eh sì in realtà devo tirare una cmb che è data dal mio cutter level più 4 più 1 quindi è 7 più 5 12 vai di 20 più 12 contro la sua cmd mi sa che l'hai preso forse no non l'hai preso lui tipo i tentacoli ineris cercano di affinchiarsi le sue braccia le sue gambe ma lui tipo li strappa basta con queste stupitacce ti ho fatto una domanda qual è il vostro desiderio più raccontito allora ehm mi mi tirate mi tirate tutti in volontà allora Akira e Tauno sentite l'impulso di pronunciare ad alta voce il vostro effettivamente desiderio più ricondito ciò che desiderate di più ciò che viene dal vostro inconscio lo proprio lo dovete urlare oddio mi prendi impreparato non lo so cioè non lo so non lo so io player ehi tu tipo dimostrare al mondo che non sono un demone potrebbe essere sì perché alla fine sì dimostrare ad Ameiko che non sono un demone ecco sì questo è già è più personale io ci sta tutta una Tauno sì scusa ero mutato l'ho sempre visto come tale quello gridere no sento niente stai laggando non ci posso fare niente cosa fare ma dicevo io lo vedo l'ho sempre visto Tauno come il suo desiderio più grande diventa un eroe proprio un eroe storico di quelli che rimangono sulle cose le storie insomma quindi probabilmente credo che griderebbe il microfono funziona è la linea che va schifo è tipo gridare io voglio diventare l'eroe più famoso della storia serio eh lo so sì guarda serio sì e tu akira beh urli così lei ok è urlata eh sì te l'ho detto prima sì sì e lui vi guarda quasi stranito cioè in questi attimi diciamo che vi state comunque scambiando colpi però nessuno dei due sta avendo meglio lui ci osserva voi avete dei desideri alquanto deludente ed è un peccato che non riuscirete mai a realizzarmi sì ecco nell'altro ameiko l'ha passato il ts giusto adesso sento ameiko che grida cosa imbarazzante prendere il cazzo da tutto il dito ameiko veramente ameiko tipo mentre vi sta parlando vedete che cerca di resistere di peccaro la terra quasi in lacrime non voglio sopportare il peso di essere un'imperatrice e fin qua lo sapevamo effettivamente beh vorrebbe essere un'imperatrice senza responsabilità tutta una realtà mi conti un po' scherzato cioè nel senso è una cosa che sì sì la guardo male cioè è normale è scioccato voglio diventare l'eroe più famoso della storia io non voglio essere l'imperatrice cosa non a me a me non me l'ha mai detto no esatto ha detto che lo sente più pressante sta cosa però a me non mi ha mai detto direttamente una cosa simile posso fare una cosa figa senza senso ha detto che stiamo scambiando colpi con il con il gallo no sì a un certo punto per qualche motivo tipo ne blocco uno mi giro dopo che a me ho detto questa cosa mi giro e con il labiale non lo so vedo se mi guarda o comunque così e con il labiale le dico lo sosterrò io per te in modo che mi guardi quando glielo dico anche a costo di prendermi un colpo dal gallo perché attacco d'opportunità è disarmato lui si c'è le artiglie si sta combattendo con bui con le artiglie ma fanno il d4 ma fanno il d4 ma fanno il d8 gli artigli e poi il d6 cosa danno il d4 a lui il d8 allora che ha fatto così allora sono a tirassuno 28 danni ho pagato 28 hp una cosa gdr sappiatelo ricordatemi così mi rimangono 20 hp 31 hp mi rimangono in tutti questi minuti i tentacoli hanno avuto 46 prove di cmb in questo tempo era tutto un round questo no vabbè allora in realtà lui ha attaccato nel suo round cioè non è stato veramente un attacco l'opportunità ok e ti ho fila sì che fila il balcone quanto è in alto quanto è in alto 6 metri 6 metri allora no volevo fa un'altra cosa però cioè volevo tipo farlo in carica al movimento però no lo fa meccasto airwalk airwalk e volo dietro qui cioè corro qua dietro ok perfetto americo dal canto suo ti casta in grandi persone tauno tutti che baffano tauno io povero cristo che tanco come un figlio di puttana pigli le botte non ho fatto anche per subite forse del palo è sprecata perché la cintura e in grandire non funziona esatto non sono baffabile che palle vai anche intanto curate i 5 danni che me li riprendo beccatiti i 5 danni poverello fagli un cazzo di full round a questo gallo l'ho visto oggi oddio si fina di puttana non lo prendo mai ok presso col primo e col quarto forse no presso col primo e basta guarda che c'ho più due ah ok pesa anche col quarto quindi più tutto tutto ok item ok rifanno la prova i tentacolini brush è mancato e uso forza del toro su tauno ma ce l'ha già su ce l'ho già ce l'ho già ah si si ce l'ho già mi ha tirato prima a me ah ha fatto entrambi a me interessante nel senso che mi cansa la decaduta da prima intorno a 10 minuti livello ah 10 minuti allora tanto per per provare della cosa impossibile prova a far scivolare sto tipo con gris ok dc 15 aspetta è scivolato ha fatto molto di dado chiacchiera chiacchiera ma è solo un pollo praticamente tipo tu gli crei una colata di di olio di olio grasso sotto i suoi piedi e lui diciamo che ancora divincolandosi con i tentacoli perde l'equilibrio e caglia a terra e accendenti a voi si si rialza e si becca l'attacco per porto l'entrata po 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 anche il mio perché è portata no si 23 eh 23 Allora aspetta Lui è a meno 4 Perché conta prono Sì Allora Preso con entrambi Tipo io che affondo la lama Lui che affonda il pugno e colpiamo insieme Il gallo Tipo Sguaina le ali, le abbre Con tutta la sua apertura all'area Imponente E si lancia in aria Sopra di voi Spiegasi Si lancia in aria sopra di voi Con uno stacco netto Dalle gambe Lui Ma ci stanno i tentacoli No Lui c'è nel senso Non lo intacca Vi osserva Dall'alto E vi Sembra sorridere Con il suo becco deforme La vostra ora È giunta Ormai Alza le mani verso il cielo Le tira indietro Indietro la testa Le piega E poi Le spiega Per alzare di voi Con tutta la forza E il potere Il corpo Vedete che Tu hai Da lontano Vedi che L'aria Dalle sue mani Fino a dove sono Dove si trovano Tauno E Akira Sembra Inizierà a vibrare Come se ci fosse Un fortissimo calore Che la distorge Fatemi Fortitude Aspetta Prima volevo Magari Scoprire Lo spell Scirocco È una madonna Cioè È di ottavo Scirocco È di sesta Fatemi Fortitude Tutti quanti È solo loro Solo loro Allora Perfetto L'avete passata Sono Sono 12 danni E poi basta Perché E poi basta Per ora Praticamente C'è questo vento Imponente Distruttivo Che vi sferza La faccia E vi brucia La pelle Vi sentite Asfissiati Dalla potenza Di questo Tornado Incandescente Che è stato Riversato Contro di voi Il Il gallo Inizia a scoppi A ridere Pensavate Di farlo Franca Così facilmente Contro di me Contro Il desiderio Incarnato Io desiderio Di Di vincere Di Sorclassare La vostra Aguità E così Sarà Da ora Come sei messo A ferite Agira? Sto a 24 Su 88 Carica Carica Carico? Domanda Secondo voi Si può far Spezzare Sulle ali? No No E allora Lo prendo in lotta Ma spada Ma come preferisci Io volevo riportartelo giù Non puoi riportartelo giù Anche se lo prendi in lotta Non cade Continua a volare Allora lo carichiamo Eh aspetta Devo caricarlo O posso Ah io Arrivo C'ho 40 feet Ah no Non ci arrivi Allora lo carico Ok preso Descrivilo Perché è morto Dico Il tuo è un desiderio meschino Vano E vile E non può nulla Contro La purezza Degli amatatsu Mescaglio Dritto per dritto Come Come se fossi io stesso Una lancia E Se ci riesco Provo proprio A trafiggelo completamente Con il tuo corpo Sì Con tutto Cioè con la Proprio Osservate Dauno Che prende la carica E si lancia Verso La Verso Il mostro Anato La sua spada Suisce Santamente Ancorata Alle mani Impugnata Con entrambe Di esse Che Si Espone In avanti Fino Fino a quando Non va Alla fine Tutta la tua potenza Si riversa Sul corpo Del gallo Volante E Vedete questa scena Detta uno in aria Con la spada Con la spada Infiammata Che Trafigge Il corpo Del gallo E poi Lo butta a terra Quasi Quasi a capofitto Nel vuoto Perché Cadete entrambi Su Sul campo Di battaglio Quando restano I nostri uomini E tu Agiross E la scena Detta uno A cadere a capofitto Con la spada Infilata Nell'addome Del gallo Arrivati a terra La sua scienzi Attentata Nel terreno E il gallo Giace Morto Misanne Con lo sguardo Vitreo Sotto di te Io mi rialzo E strago La lama Faccio Movimento Come per Pulirla Dal santo Catto E la rinfodero L'oscurità E' stata Dissipata Io scendo A terra A livello Di Akira E Lo curo Nel frattempo Tengo sempre D'occhio L'altro Aiden Tutto intorno A voi Eh Nel completo Caos La distruzione Il massacro Sia le truppe Del D'angano Che le nostre Sono Collassate Distrutte L'una Con l'altra Uno scontro Micidiale Che non ha lasciato Spazio Quasi a nessun Supersite I pochi Saranno vissuti Pianco In un angolo Trasformati Nuovamente In maiale In quella Forma Così Vile D'ignoranza Voi Osservate Il campo Di battaglia La pozza Di sangue Unica Che ricopre Il terreno La polvere Dell'aria Che vi Tappa le narici L'odore Acre Del sudore E del sangue Il regalo E' stato sconfitto Il D'angano Eppure però Non vi è Alcuna statuetta Non vi è Alcun collasso Del mondo L'unica Cosa Che Vi balena Nella mente E' salire Continuare Continuare a salire Perché Perché Il vostro Addestramento La vostra Prova Non è Finita Questa Era solo La prima Parte Akira Come distinto Girillo Sguarda Dietro le Ragazze Dietro alle Porte Aperte E noti Un'unica Scala Dorata Che dà Verso Alto E qua La chiudiamo Sì Quanto pare Dobbiamo salire Di nuovo C'è una Scala Dentro Qui La via Per la purezza Come la sensazione Di averla Già percorsa Questa scala Osservate Osservate a me In qualche modo Lei Rimane là Ma in caso Non sa Non ha mezzi Per salire Osserva Oltre le scale Oltre le scale Mentre la guardate Osserva il campo di battaglia Con uno sguardo Sconfitto Nei suoi occhi Non vi è La vittoria Vi è solo Il Lo sconforto Di ciò che è accaduto Oggi Sul campo di battaglia Forse Anche per causa Sua Forse Per quella Forza Che si è lasciata Inebriare Lei stessa La donna Che grava Il peso Dell'impero Del titolo Che tanto L'esprezza Non può Agire così Di un poquizzo Lei stessa Lo sa Lo leggete Nei suoi occhi Leggete La Disperazione Ora Il senso Della prova È chiaro L'Aidan Sopra il tetto Continua Ad osservarvi Mentre Incrocia Il tuo sguardo Aidan Sembra Sorridere Sembra Schernirti Quasi Aspetta Aspetta Vi osserva E Tipo Senza Cioè Prima che voi Possiate Reagire Salta In aria Scatta Verso Alta Fino Alla parte Opposta Della fortezza Gesserra Nuovamente Tutto Brucia E cos'è Tutto Quel che Brucia L'occhio Brucia Le forme Bruciano La coscienza Brucia Il contatto Brucia Brucia E qualsiasi cosa Sia percepita Come piacevole O dolorosa O altrimenti Nemmeno Piacevole Nemmeno Dolorosa Che Si Innalza Col Contatto Visivo E la sua Condizione Indispensabile Tutto Ciò Brucia Ma Brucia Con cosa Brucia Con il fuoco Del desiderio Con il fuoco Dell'odio Con il fuoco Dell'ignoranza Io Dico Che brucia Con la nascita Con la crescita Con la morte Con il dolore Con le lamentele Con la Con i dispiaceri Con l'odio Con la disperazione Accende un sorriso E Salta Diciamo anche nel fuoco Dall'altra parte Della fortezza Scomparando Eh? Lo vedo Letteralmente Guardo gli altri Fatti Eh? Che cos'è? Ha scoperto L'acqua calda Che stare Vivi fa male Oh wow Benvenuto Nel mio mondo Aidan Preferivo forse Quello tuo gigante Da cui Il cui cappuccio Vomitava Cose orribili Quanto meno Quello vomitava Mostri Non filosofia spicciola Esatto Sembra Tipo Sai quei biscotti Che ci sono Nei ristoranti Del ramen Quelli che ti danno Con dentro Il pezzo di pergamena Ma non lo sottovaluterei Non sappiamo Che cosa ci aspetta Dall'altra parte Sottovalutarlo no Soltanto che dice Ovvietà Passandole per Filosofia Che noi dovremmo Interiorizzare Era molto meglio Quella del dolore Del silenzio Quella sì che aveva valore Questa Che cosa ci dice Ci dice che dobbiamo Desiderare E che ne desiderando Moriremo Che grandissima novità Sono nato desiderando Cosa che non potevo avere E ancora adesso Desidero cosa che non posso avere Mi guardo a me E con giù Solo che sto parlando Abbastanza basso Da non farmi sentire Da lei Tu Ti rendi conto Che effettivamente È È una Un passaggio Di uno dei libri sacri Di una filosofia Definito Sermone del fuoco E la filosofia Dietro di esso È Effettivamente Fa parte di Del percorso Che state affrontando Per eliminare Il dolore Eppure però Come Eliminare il dolore Questi piaceri Terreni Questo dolore Deve essere tutto Messo da parte Deve essere tutto Interiorizzato I sentimenti Non hanno spazio Sulla via dell'illuminazione Eppure però Qualcosa Qualcosa È cambiato Su questa via Quell'albero Quell'albero Ha stabilito Un punto In un ritorno Qualcosa che I precetti Dell'Akira Umano Non avevano Preditto Forse Forse Le sue parole Si sono rivelate Veramente Errate Ma solo il tempo Potrà stabilirlo Con certezza E qua Chiudiamo Veramente Ciao A tutti Buonanotte Buonanotte Ciao 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 Grazie a tutti.